ci siamo cari colleghi benvenuti a questa terza serata dedicata della nostra CAO di Milano dedicata all'ortodonzia in particolare un argomento molto interessante l'ortodonzia invisibile mi fa piacere vedervi tra l'altro così numerosi perché caspita su un argomento diciamo ortodontico avere addirittura più di 200 iscritti è una grande soddisfazione grande soddisfazione anche per il nostro comitato scientifico della CAO che ringrazio e ringrazio ovviamente soprattutto il protagonista di questa sera il professor Pasciuti che ci regalerà una serata veramente molto molto interessante molto attuale perché tantissimi pazienti in un'epoca in cui assolutamente l'estetica è un must ci chiedono ovviamente per quanto riguarda l'ortodonzia qualche cosa di che non si veda ovviamente le soluzioni invisibili tra l'altro un argomento voglio sottolineare come come CAO di Milano un argomento anche molto caldo perché in questo periodo siamo come professionisti anche bombardati da aziende che producono apparecchi ortodontici che propongono attraverso email ma anche attraverso i social contatti diretti con con noi come professionisti ma ecco questa è una cosa molto negativa a volte anche con i pazienti voglio ricordare in quest'occasione quello che è successo proprio a Milano nelle nostre metropolitane circa due tre mesi fa dove tutti noi che prendiamo la metropolitana abbiamo potuto vedere dei cartelloni tre metri per due dove un'azienda che produce apparecchi ortodontici trasparenti si reclamizzava direttamente ai pazienti ecco questa è una cosa assolutamente fuori legge e devo dire una soddisfazione per la nostra CAO di Milano che abbiamo avuto un colloquio proprio con il direttore generale della di questa di questa azienda che ha prontamente rimosso da tutte le metropolitane di Milano questa questa pubblicità perché ricordiamo ancora per una legge del 1992 è vietato che dei marchi commerciali che producono dispositivi medici su misura come è un apparecchio ortodontico si reclamizzino direttamente al paziente lo possono fare a noi perché siamo ovviamente possono reclamizzarsi con noi perché siamo dei professionisti ma non direttamente al paziente tra l'altro una cosa che raccomando che dobbiamo tutti noi come professionisti avere la massima attenzione ci sono alcune aziende come era quella in questione che faceva questa pubblicità che propongono ai professionisti dei contratti dove c'è scritto in una in una clausola che il responsabile del trattamento è l'azienda ecco questi sono contratti assolutamente nulli per la legislazione italiana per cui dobbiamo fare grande attenzione quando un'azienda che produce impianti o che produce soprattutto in questo caso apparecchi ortodontici ci propone contratti dove magari propongono di inviare pazienti in studio e sottoscrivere una clausola in cui il responsabile del trattamento è la casa madre ecco questo è assolutamente una clausola nulla per la legislazione italiana e fare molta attenzione quando ci vengono proposti questi tipi di contratti ritorniamo all'argomento di stasera appunto una serata molto interessante di odontoiatria invisibile ringrazio ancora una volta il professor Pasciuti ma lascio a questo punto la parola al nostro consigliere segretario della cao la dottoressa lucia giannini ma prima ancora di lasciarle la parola vorrei perché sto vedendo tra i partecipanti anche la presenza di gianvito chiarello che voglio salutare davanti a tutti che il presidente del suso mi fa molto piacere suso nazionale per cui mi fa molto piacere che abbia deciso di partecipare a questa serata e anzi colgo l'occasione anche per ringraziare anche lui per avere diffuso anche la brochure di questo evento culturale a tutti i suoi iscritti grazie lucia lascio a te la presentazione della serata e del relatore grazie grazie mille buonasera tutti anche da parte mia grazie andrea per avermi dato la parola e benvenuti a questa terza serata del nostro programma culturale che si occupa proprio di ortodonzia anche da parte mia ringraziamento al presidente nazionale della suso dottor chiarello e un ringraziamento a tutti voi per essere presenti visto che siete veramente molto numerosi io prima di iniziare devo darvi qualche informazione tecnica riguardante appunto la la serata riguardante alcune alcuni dettagli che sono importanti per l'acquisizione dei crediti ecm innanzitutto vi raccomando di rimanere connessi per tutta la durata dell'evento quindi per il cento per cento del monte ore in modo tale che la vostra presenza sia registrata in modo corretto potrete poi eseguire il questionario cm a partire dalle 12 di domani fino alle ore 23 e 55 del 7 di aprile durante la serata e durante la relazione del nostro professor pasciuti potrete rivolgere delle domande che potrete scrivere nella chat che trovate nella parte bassa di zoom e verranno poi da noi moderatori rivolte alla alla relatore alla fine del suo intervento quindi non abbiate timore a scriverle anche durante la relazione ma aspettatevi che poi verranno eh date le risposte appunto alla fine della della serata con molto piacere introduco quindi il nostro relatore il professor pasciuti che eh vi do alcune informazioni che ormai eh conoscete però eh in primis eh vi do alcune informazioni riguardanti il suo curriculum si è laureato in odontriatria presso l'università degli studi di Milano e si è specializzato in ortodonzia presso la medesima università. È stato anche professore a contatto della scuola di specialità di ortodonzia presso l'università degli studi di Milano e attualmente lo è presso l'università di Roma a Tor Vergata. Ha acquisito dei titoli molto importanti in ambito ortodontico tra cui l'Italian Board Ortodontica Liner e lo European Board Ortodontist. Adesso mi permetto Enzo di farti qualche domanda un po' più informale diciamo dopo aver letto in tuo curriculum che è sicuramente molto prestigioso e quindi permettimi di chiederti dove sei nato. Eh innanzitutto buonasera a tutti eh buonasera Lucia buonasera Andrea grazie per l'invito. Allora io nasco il 6 dicembre 1978 a Tradate eh che è in provincia di Varese quindi questo eh paese di ventimila anime in provincia di Varese. Sei legato alla tua città di origine? Sì tieni conto che ho vissuto a Tradate fino a quattro anni fa sostanzialmente quindi ho quarantatré anni ormai fino a 38 o 39 anni vissuto qua e sono legato anche perché quando nel 2014 ho deciso di aprire il mio studio ortodontico ho fatto una delle scelte più azzardate eh che poi comunque alla fine ha pagato però che è stato per l'altra data. Il mio studio ortodontico non è un modello normale in Italia così consueto così insomma e quindi probabilmente avrebbe sarebbe stato più semplice di aprirlo a Varese a Como a Milano però ci ho creduto appunto ci tenevo ad aprire la Tradate e quindi l'ho aperto lì. Oggi va molto bene. Solo negli ultimi anni mi sono trasferito eh di abitazione semplicemente perché avevo bisogno di più spazio, abito a Mozzate che è cinque minuti da qua però il mio cuore di tradate, mi sento un tradatese sempre. Quali sono allora i tuoi hobby? Diciamo non so se hai qualche passione particolare che ci puoi raccontare. Ma guarda allora ho ho due o tre hobby particolari diciamo. Il problema è quando coltivarli perché eh tra lo studio che mi occupa tantissimo tempo, tutte le attività di consulenza, poi durante i weekend sono sempre a tenere corsi quindi è un po' difficile. Però il mio hobby principale è collezionare videogiochi e flipper anni 90, anni 80-90 perché poi li restauro, li sistemo, la verità è che non c'è mai tempo di giocarci però è un hobby un po' particolare anche perché sono tutti belli ingombranti, pesano 150 kg l'uno quindi anche solo muoverli eccetera non è semplice però flip per lo più qualche videogioco ma per lo più flip. E poi d'estate mi diletto a cucinare a cucinare soprattutto con griglia, barbecue americani, tutte queste cotture dirette e dirette, sette, attore di cottura, delle cose un po' particolari. Il risultato non è sempre quello che mi aspetto però è un bel modo per trascorrere domeniche in amicizia con gli amici insomma. Direi assolutamente. Ti faccio due domande legate alla tua professione. Qual è l'aspetto più bello e quello più brutto della tua professione? Ok beh sicuramente l'aspetto più bello dell'essere un ortodontista è che probabilmente non voglio però probabilmente tra le varie discipline odontoiariche è quella in cui facciamo meno male sostanzialmente perché non facciamo quasi mai anestesia, il paziente non viene che ha dolore eccetera e quindi si riesce a instaurare un rapporto, tra l'altro rapporto lungo perché le mie terapie in media sono 18-24 mesi con i pazienti. Un rapporto umano. Cioè la parte più bella della professione è le relazioni umane, quindi non professionali che creo con i bambini e con i genitori e con i pazienti adulti che poi spesso permangono nel tempo e insomma ogni volta che tu sei in grado di ridare un sorriso e percepisci che davvero non stai solo cambiando il sorriso ma proprio la vita del paziente è la soddisfazione massima che come dentisti possiamo avere. La parte più brutta, l'ha già in qualche modo accennata Andrea, è della mercificazione in questo momento storico dell'ortodanzia legata appunto a queste aziende che vogliono saltare completamente la nostra figura, addirittura vendere mascherine ai pazienti direttamente come se il nostro fosse un ruolo di venditore. Io non mi sento per niente un venditore e quello che vedrete in questa relazione è che io utilizzo un mezzo terapeutico che è l'allineatore ma con dietro tante tante conoscenze biomeccaniche e che è quello che fa la differenza tra un trattamento e un maltrattamento, un trattamento che è poco predecibile. Però sicuramente è qualcosa che un po' insomma mi lascia mi lascia la mare in bocca. Decisamente. Visto che tu tieni tantissimi corsi ai spesso a che fare con giovani colleghi, qual è un consiglio che ti senti di dare a loro? Cosa consiglieresti a chi si affaccia oggi all'odontatria, magari in particolare all'ortodonzia? Beh, allora sicuramente due consigli. Il primo, io parlo di ortodonzia perché è solo quello so fare, è di trovare un mentore. Cioè secondo me avere una persona, un modello, una guida è fondamentale perché se hai qualcuno da imitare, da raggiungere, se hai uno stimolo continuo. Io, il mio mentore, molti lo conoscono, è Davide Mirabella e devo tutto a lui, non solo perché mi ha insegnato la maggior parte dell'ortodonzia che so, ma perché era un esempio, è stato un esempio per me, è un esempio per me e mi ha ispirato costantemente a migliorare. E quindi trovare un mentore e trovare qualcuno che ti prende per mano e che ti aiuta. E la seconda cosa, questo ovviamente siccome parliamo stasera di allineatori, io sono considerato uno degli esperti massimi di allenatori in Italia, devo dire che però io sono un esperto di allenatori, ma sono, mi ripeto, un esperto dell'ortodonzia. Cioè oggi ovviamente tenendo corsi ho tanti giovani che vogliono subito imparare a utilizzare gli allenatori e io consiglio a tutti di partire dalle basi, partire innanzitutto da imparare ad avere un buon approccio diagnostico e una buona pianificazione del trattamento. Però reputo che per ottenere i massimi risultati con gli allenatori bisogna conoscere le basi della biomeccanica, un po' come io mi sono affacciato l'ortodonzia nel 2000, più o meno, il 98-2000 e ormai si usano già le tecniche straight wire da inizio agli 80, eppure io ho studiato Andrews, ho studiato Tweed, ho studiato Barstom, cioè ho studiato le basi. E le basi biomeccaniche, le basi dell'ortodonzia sono ancora una volta la base di una gestione anche con gli allenatori. Quindi due consigli, trovate qualcuno da seguire, un mentore e partite però dalle basi. Inizio al subito approcciare l'ortodonzia con gli allenatori è il modo probabilmente più sbagliato, perché se non hai le conoscenze di base, quando le cose non funzionano non capisci perché e poi dai la colpa al mezzo terapeutico, quando invece spesso è solo una colpa nostra di pianificazione. Grazie Enzo, grazie di queste tue risposte, ora non vediamo l'ora di ascoltarti e quindi ti lascio la parola e ci vediamo dopo per le domande. Perfetto. Allora io condivido lo schermo, poi mi dite se lo vedete, penso di sì. Sì, confermo. Perfetto. Allora, innanzitutto vi saluto, buonasera a tutti, è un piacere per me essere qua oggi e trascorrere un paio di ore in vostra compagnia con l'obiettivo di capire che cosa sappiamo oggi di ortodonzia invisibile, se può essere considerato il futuro o meno. Per parlare di questa cosa ovviamente ho bisogno di partire da chi sono io, ma soprattutto di qual è la mia esperienza nell'utilizzo degli allenatori. Io faccio l'ortodonzia da quando mi sono laureato, quindi dal 2004, o meglio ho iniziato a approcciarmi al reparto dell'Università di Milano, nel 2000, quindi sono 22 anni che vedo e respiro, come dico io, l'ortodonzia e devo dire che oggi ho trattato più di 1800 pazienti esclusivamente con l'utilizzo degli allenatori, che è un numero veramente alto, soprattutto perché quando io parlo di pazienti trattati intendo pazienti in cui l'obiettivo di trattamento era quello di risolvere la maloclusione, quindi portare il paziente in prima classe canina, avere le giuste guide in lateralità, in produsiva, insomma risolvere la maloclusione. Spesso o per lungo periodo gli allenatori sono stati associati a semplici trattamenti di camouflage, di allineamento dei denti frontali, quella è un'ortodonzia puramente estetica o addirittura alcuni definiscono cosmetica, non è la mia ortodonzia quotidiana, poi capita anche a me se il paziente per il suo shift complaint è quello solo di allineare e non vuole per qualsiasi motivo, come dire, cambiare l'occlusione o non percepisce la problematica, io non devo obbligare per far saltare il paziente, ma sono un ortodontista quindi io cerco sempre di centrare tutti gli obiettivi di un trattamento ortodontico e quindi io ho trattato più di 1800 pazienti iniziando nel 2007, quindi la prima certificazione l'ho ottenuta nel 2007, appena uscito la specialità, mi sono specializzato da quell'anno e nello stesso anno ho fatto la mia prima certificazione di utilizzo allineatori e devo dire che i miei primi risultati erano questi, erano risultati estremamente scadenti, cioè nel 2007 quando mi certifico l'azienda mi dice guarda è sufficiente che tu prendi queste impronte, un po' le vieni se lo sanno, ce le mandi, compili un format su internet e ti arriverà una simulazione del trattamento, un video in cui i denti si muoveranno, se ti piace il risultato finale tu schiacci a prova, ti arriveranno delle mescherine, è sufficiente che le consegni ai pazienti e tutto funzionerà. Io ai tempi ero molto più giovane di oggi, ero già però abbastanza furbo e sgamato, quindi decido di prendere tre pazienti con un'occlusione ideale, come mamma gli aveva fatto di perfetta prima classe bilaterale, uno aveva un po' di morso profondo e basta, uno un po' di affollamento e un altro un semplice diastema. Mando, prendo le mie impronte, compilo il format, mando tutto all'azienda, mi arrivano questi setup chiamati clean check, che non sapevo assolutamente come guardare e soprattutto che cosa guardare, quindi mi limito a vedere se i denti nel video sembravano fossero detti o meno, in effetti lo erano, a prova, mi arrivano gli allenatori e quindi questo vuol dire che io non avevo nessun modo interagito con la simulazione, non avevo nessun modo applicato alcun concetto biomeccanico, che peraltro allora ai tempi conoscevo ancora poco perché mi ero appena specializzato e sono stato in grado di perdere l'occlusione in tutti e tre pazienti, cioè se vedete i pazienti a fine trattamento non chiudono nei settori posteriori. Questo è quello che viene chiamato posterior open bite, che è una, come dire, un effetto collatelare che ancora oggi è fortemente presente, tant'è vero che se scrivete su internet come correggere il morso posteriore a sicuramente con allineatori, trovate più di 255 mila risultati, quindi è una cosa che preoccupa sia i pazienti che lo percepiscono, ma soprattutto che preoccupa ancora i colleghi. Oggi nel nostro studio questa cosa non succede perché abbiamo imparato a prendere il controllo di situazione, applicare le conoscenze biomeccaniche che avevamo prima sulle apparecchiature fisse e le abbiamo semplicemente tradotte, traslate per le biomeccaniche allineatori e siamo in grado di avere molto più controllo. Questo mi ha portato quindi dal 2007 al 2014 a trattare veramente pochi casi perché percepivo che non ero in grado di avere il controllo. Ero il braccio destro in quel momento di Davide Mirabella, che era conosciuto, hai conosciuto per il finishing, la qualità di perfezione dell'occlusione e non potevo permettermi di avere quel tipo di risultati. Quando mostravo i casi ai miei colleghi più esperti, i miei amici e i colleghi più esperti mi dicevano, beh, ma cosa vuoi, cosa ti aspetti da questo mezzo terapeutico, dalla plastica? Non puoi avere controllo con la plastica. La verità non era che non potevamo avere il controllo, la verità è semplicemente un'altra, che nessuno ci aveva insegnato come prendere il controllo, nessuno ci aveva insegnato come le biomeccaniche da utilizzare per gli allineatori. Ci avevano semplicemente detto, prendi queste cose, prendi l'impronta, ti arrivano le mascherine e consegnale e tutto funzionerà. Questo mi ha portato a una prima rottura fortissima con gli allenatori che ho smesso di usare in brevissimo tempo. Dal 2007 al 2014 li ho usati in meno di 100 casi per semplici e banalissimi allineamenti quando il paziente non voleva fare alcun che d'altro. Nel 2014, dopo dieci anni, da quando inizio le mie attività e lavoravo in più di 20 studi dentistici come consulente, decido di volermi fermare, nel senso che volevo aprire il mio studio e decido aprire uno studio tontico, come dicevo prima, a Tradate, in provincia di Varese e nel momento in cui decidi di aprire una realtà nuova, tra l'altro difficile da capire perché per le persone comuni uno studio tontico è qualcosa di strano, in Italia non è come negli States o in Francia dove c'è lo studentissimo studio tontico, è una realtà non così presente. Decido quindi che per potermi posizionare, avere la possibilità di fare entrare i pazienti, dovevo creare qualcosa di diverso. Questo è il motivo per cui la prima cosa che metto nel mio studio è uno scanner, quindi nel 2014 la prima cosa che compro prima ancora il poltrono è uno scanner perché ho sempre voluto offrire un servizio completamente digitale a 360 gradi. Cioè nel mio studio oggi qualsiasi tipo di terapia intercettiva, espansori, espansori per dell'erma, qualsiasi cosa, archilinguale, vengono progettati e fatti tutti in 3D, ma anche le apparecchiature fisse, quindi le apparecchiature self-wire, non facciamo più dei bandaggi diretti, ma tutti i bandaggi sono dei bandaggi indiretti, cioè io pianifico virtualmente al computer la posizione dei denti, o meglio esiste un laboratorio che lo fa per me, pianifica, posiziona i bracket virtualmente al centro dell'asse della corona del dente, poi io li modifico per fare tutto quello che si chiama l'overcorrection, faccio stampare dei tray, quindi questi template con dentro, dove metto dentro poi i brackets e faccio il mio bandaggio. Quindi anche questa cosa è quello che viene chiamato il bandaggio indiretto pianificato digitalmente. Anche l'utilizzo di mini viti che ci hanno, come dire, aperto un mondo, hanno fatto notizie, le due più grandi rivoluzioni negli ultimi decenni sono sicuramente gli allineatori, i risultati si possono trovare con gli allineatori e le mini viti. Tutta la pianificazione dei mini viti, avendo l'ATTAC, la CVCT in studio, viene fatta un po' come le dime chirurgiche per gli impianti, quindi con dell'inserimento dei mini viti guidati, quindi facciamo tutto questo tipo di pianificazioni che ci permettono di ottenere risultati importanti e che ci permettono oggi sempre di più di aver superato o spinto più in là i limiti dell'ortenanzia. Oggi facciamo espansioni su mini viti anche ai pazienti di 35-40 anni, riuscendo a lavorare sulla struttura, quindi avere un reale effetto scheletrico. E tutto questo nel mio studio viene sempre e solo pianificato digitalmente. Ma la seconda scelta che ho fatto nel 2014, quando ho deciso per il mio studio, era se vuoi essere, insomma, aumentare velocemente il numero di pazienti, deve essere sempre diverso, posizionato in maniera diversa, quindi digitale, e poi ho deciso di partire a utilizzare il più possibile Invisalime, semplicemente perché i miei colleghi attorno al mio studio, ho 22 studenti statistici attraverati, su consulente ortodontico, però la maggior parte non offriva trattamenti con gli allenatori. E quindi questo è il motivo per cui ho deciso di intraprendere questo percorso. Ovviamente non si può pretendere, questo è il consiglio soprattutto per i più giovani, di approcciare una nuova tecnica con quegli allenatori, se non si ha esperienza, iniziando a trattare tutte le malocclusioni da subito. Questo non è stato il mio percorso. Io quello che ho fatto nel 2014, quando ho deciso di iniziare a utilizzare in maniera importante, massiva, gli allenatori, ho iniziato a fare corsi su corsi, ho girato il mondo, ho speso energie, soldi e tempo, sono andato a trovare i migliori provider, i migliori speaker di tutte le tecniche degli allenatori e da loro ho imparato i segreti e poi corso dopo corso, aereo dopo aereo, tornavo in studio, applicavo quello che avevo imparato e quello che poi funzionava, l'ho protocollato. E anno dopo anno ho aumentato il numero di casi, ma non è tanto il numero di casi che si possono trattare con gli allenatori, ma è la tipologia di malocclusioni trattabile con gli allenatori, nel senso che nel 2015, appena inizio a trattare i casi con i allenatori, mi concentro banalmente sulle prime classi, quindi prime classi con un po' di mostro profondo, affollamenti, di estemi, ma poi anno dopo anno, questa distribuzione dei casi del mio studio, decido di spingermi e quindi allargare la quantità, la tipologia di malocclusioni trattabile con gli allenatori. Quindi prima mi focalizzo sulle seconde classi, soprattutto sulle seconde classi morso profondo, perché sono le malocclusioni che si, come dire, si evidenziano in più nel mio studio, il 60% delle malocclusioni sono seconde classi morso profondo. Poi decido di lavorare molto sul verticale, perché nelle tecniche straight wire il morso profondo è qualcosa di facilmente gestibile, mentre con gli allenatori è qualcosa di molto più difficile da trattare, quindi ho lavorato molto sul controllo di verticalità, sul controllo di terze classi, fino ad arrivare poi oggi, questa è la distribuzione del 2018, ma da lì in poi è sempre stato così, a trattare la quasi totalità dei miei pazienti con allenatori. Oggi io penso che siamo tra l'85 e il 90, 95, dipende poi da semestre a semestre, però di casi adulti trattati con gli allenatori. Ripeto, sempre con l'obiettivo però di raggiungere gli stessi obiettivi di qualsiasi altra terapia ortodontica. E quindi alla domanda oggi della relazione, la domanda per cui sono stato invitato, se gli allenatori rappresentano il futuro o no, beh, io dico che bisogna guardarsi in giro e ovviamente, secondo me, rappresentano il futuro, perché innanzitutto è il mercato che ce lo dice. Tutte le aziende ortodontiche oggi si sono mosse sugli allenatori. Prima c'era un'unica casa importante, oggi la maggior parte delle, come dire, delle aziende ortodontiche sono spostate dai bracket agli allenatori. E la casa più importante agli allenatori fattura, e questo è leggi del mercato, fattura molto di più di R-Shine, piuttosto che R-Shine che vende il consumabile, cioè le cose di uso, e fattura molto di più di Sirona che vende le TAC e le CBCT. E questo è un dato importante, cioè il mercato si sta spostando tutto là. Ma se non vogliamo credere al mercato, beh, è sufficiente credere però a questo personaggio. Chi di voi è ortodontista lo conosce sicuramente, Lise Johnston, che nell'introduzione del semi-artodontico del marzo 2017, nell'introduzione dice, ho sottostimato, mi sono sbagliato, ho sottostimato le potenzialità degli allenatori. E l'ultima riga sottolineata dice, in breve tempo, la tecnologia legata agli allenatori dovrà assolutamente essere attenzionata. Questo perché, appunto, tanti di noi si sono focalizzati sul pianificare, progettare e creare delle biomeccaniche agli allenatori che ci potessero permettere di trattare i nostri pazienti, che prima trattavamo solo con le apparecchiature fisse, ottenendo gli stessi risultati. Quindi il mercato si sta muovendo lì, perché anche le richieste dei pazienti si stanno muovendo tutti su delle terapie il più invisibili possibile, ma non è tanto una questione solo di invisibilità, ma anche di comfort, perché anche le apparecchiature linguali sono invisibili, addirittura sono le uniche forze invisibili, perché gli allenatori qualche cosa si può percepire, ma è proprio un problema di comfort e gestione dell'apparecchiatura. E poi scherzando, vi dico sempre che se non volete credere nel mercato, se non volete credere nel Lise Johnson, allora credete a mio figlio, a Lorenzo di quattro anni, che essendo figlio in dentista, come tutti i vostri figli, ogni volta che fanno il cumpleanno, gli regalano sempre questo gioco del Dido, e l'anno scorso gli regalano il Dido del dentista con i brackets, e il 4 marzo, esattamente un mese fa, ha fatto quattro anni, e gli hanno regalato una nuova versione, dove non ci sono più brackets, ma c'è l'allineatore e la stricettina per fare stripping. Quindi se anche il mercato dei giocattoli si è spostato sull'allineatori, beh, vuol dire che non è il futuro, che è probabilmente il presente. Perché la mia provocazione è quella di dire che oggi, almeno nel mio studio, Invisalign rappresenta, e gli allinatori rappresentano il presente, cioè l'85-90% dei miei pazienti adulti vengono trattati con allinatori trasparenti, il 75% degli adolescenti vengono trattati con allinatori, e anche un buon 25% dei bambini li trattiamo esclusivamente con gli allinatori. I bambini una percentuale più bassa perché, beh, semplicemente perché l'allinatore non ti risolve una problematica scretica, quindi quando la problematica scretica ha un cross monolaterale o bilaterale legato a una ipopesia del mascerale superiore, non interessa io spingere in fuori i denti, voglio aprire la struttura del mascerale superiore, quindi continuo a mettere, per esempio, il mio espansore rapido e palato. Ma in tutte quelle situazioni di discrepanza a dento basale, in tutte quelle situazioni di mancata coordinazione tra le arcate o di eruzione abnorme o in posizione non fisiologica di qualche dente, l'allinatore è una scelta estremamente performante nel trattare quel tipo di problematica del bambino, tenendo conto che la compliance dei bambini è altissima ed è una cosa che io all'inizio non mi aspettavo, ma devo dire che ragionandoci è normale, perché i bambini fino a dieci anni sono ancora sotto il controllo dei genitori, quindi collaborano tantissimo. Il 75% di adolescenti da me rimano trattati con gli allenatori e non il 100% per una ragione sola, che c'è una piccola percentuale di soggetti solitamente maschi tra i 13 e i 16 anni che difficilmente ti collaborano con l'apparecchiatura dell'età, loro non collaborano con nessun tipo di apparecchiatura, neanche con l'apparecchiatura fissa, ma con gli allenatori è ancora più difficile perché alla base degli allenatori ci deve essere una compliance di 22 ore al giorno. I pazienti adulti ormai l'85-90% dei casi li trattiamo con gli allenatori, le situazioni cliniche che non trattiamo con gli allenatori sono i casi estrattivi che partono con un morso normale o profondo, in quei casi preferisco non utilizzare gli allenatori perché gli effetti eversi che sono proprio cost-effective, etnime, clofine e quant'altro mi determinavano un approfondimento eccessivo del morso e una categoria particolare di pazienti che non deve essere approcciata con gli allenatori è quella dei pazienti che hanno i denti piccoli. Perché? Perché è uno dei principi base degli allenatori, oggi ne parleremo, ma è che gli allenatori uovono i denti esclusivamente spingendoli e quindi più ampia, maggiore la superficie di spinta, più controllo avremo, tridimensionale la posizione dei denti. È chiaro che se un paziente ha tutti i denti micro, non devono essere micro, cioè micro-dontici, nel senso con anomalia di forma, magari tutti un po' piccolini, ecco che stiamo riducendo di tanto la superficie di spinta e avremo sicuramente meno controllo. Quindi oggi il mio presente è l'utilizzo degli allenatori. Questo perché? Perché ho una gestione clinica che è assolutamente fenomenale rispetto allo straight-while con cui faccio il paragone, cioè utilizzare gli allenatori mi permette di vedere i pazienti ogni tre mesi. Con le parchetture fisse io vedo i pazienti una volta al mese e invece con gli allenatori li posso vedere ogni tre, addirittura ogni quattro mesi. E questo è un vantaggio sicuramente per me, nel senso che ho meno appuntamenti schedulati per giornata, ma anche per il paziente. Oggi nessun paziente ha tutto il tempo che vorrebbe poter recarsi dal dentista una volta al mese, quindi dare un'apparecchiatura che gli permette di avere un'alta precività, ovviamente, e però ridurre notevolmente le visite, è un grande vantaggio per il paziente. Un altro vantaggio è il tempo alla poltrona. In media, con set-while, da me, in studio schedulano un appuntamento di 20-30 minuti perché il paziente viene, togliamo le legature, togliamo l'arco, facciamo lavare i denti, ringaggiamo l'arco, cambiamo l'arco, facciamo pieghe o qualchè, e insomma ci passano 20 minuti o 30. I controlli di allenatori sono controlli estremamente veloci perché a parte qualche operatività, tipo lo stripping, se tu hai pianificato tutto bene, tutto segue, sono sufficienti 10 minuti, noi scheduliamo 10 minuti per i controlli con gli allenatori. Un altro grande plus è il fatto che non ci siano né urgenze né emergenze. Questa è una cosa importante. Quando ho aperto lo studio ortodontico, ovviamente uno dei plus che dovevo avere per differenziarmi dai studi attorno a me era quello di avere un servizio, una customer care importante, avevo un servizio 24 ore su 24, e mi ricordo che tutte le domeniche dovevo venire nel studio per riattaccare un bracket perché c'era sempre qualcuno che staccava un bracket a pranzo o a domenica. Con gli allenatori non abbiamo ridotto le urgenze, le abbiamo eliminate, non abbiamo alcun tipo di emergenza con gli allenatori. E questo ovviamente è un altro vantaggio per il paziente, si riduce dei spiaticati perché gli studi scientifici ci dicono che è più semplice lavare l'inforzo. Ovviamente io apprezzo e adoro tutti questi vantaggi degli allenatori, ma lo faccio solo perché riesco a ottenere gli stessi risultati che si ottengono con lo struttuale, intendo risultati di qualità. La verità è che la letteratura però dice una cosa completamente diversa da quella che vi sto dicendo io, cioè se voi guardate questi articoli che sono uno del 2017 e uno del 2015, uno della scuola di Torino che è molto forte sull'allenatori con Tommaso Tassor Torio e il suo gruppo, l'altra è della scuola di Ferrara, professor Siciliani, il mio carissimo amico fraterno Luca Lombardo, eccetera. Questi due studi hanno valutato, uno è una sistematica review, uno è uno studio retrospettivo, qual è la predecibilità dei movimenti singoli nel terpiano spazio con gli allenatori. E la predecibilità, gli studi ci dicono che è bassissima. L'estrusione si verifica meno del 30%, le rotazioni, scusate, le rotazioni dei canini meno 30%, il laterale è un metodo difficile a muovere, il premolare che è un cilindro ancora più difficile da ruotare, non si può ristralizzare più di 2 mm, massimo 2,5 mm, e in tantissimi casi si rischia di perdere l'occlusione posteriore. Quindi questo è quello che ci dice la letteratura. Eppure io oggi sono qua per dirvi che si può prendere il controllo della situazione con gli allenatori, perché questi studi si basano su un dato che quando io ho scoperto mi sono venuti i brividi. Dovete sapere, questo è un dato del 2019, che nel 2019 l'80% dei casi ortodontici con allineatori della casa più importante sono stati accettati dall'ortodontista, approvati dall'ortodontista alla prima review. Cioè vuol dire senza essere stati guardati, perché se io guardo una cosa e non ne modifico niente, vuol dire che accetto in maniera passiva il trattamento pianificato da un tecnico dall'altra parte del mondo, che probabilmente non ha neanche le corrette competenze biomeccaniche, o da un'intelligenza artificiale, perché oggi le prime review, le prime simulazioni ci arrivano pianificate dall'intelligenza artificiale, che non può tenere in considerazione tutti i valori che noi umani abbiamo invece la possibilità di tenere in considerazione soprattutto dal punto di vista dell'ignostico. E allora è chiaro che se l'80% dei colleghi, proprio perché il messaggio dell'azienda all'inizio era questo, ti arriva una simulazione, tu accettalo, arriveranno le mascherine, tutto funzionerà, vi ho fatto vedere io i miei primi tre casi, è chiaro che se lo studio viene fatto su questi dati è normale che la precipità è bassa. Ma la verità è che gli allineatori oggi io le considero davvero come una Ferrari, cioè la miglior macchina, il miglior mezzo terapeutico da poter utilizzare in ortodonzia. Vi ho già spiegato la gestione clinica a quanto sia più semplice per me e per il paziente. Però è chiaro che se voi mi date adesso le chiavi in mano di una Ferrari e mi chiedete di darla, è molto probabilmente o vado 20 all'ora o mi schianto alla prima curva. Perché? Perché non so usarla. E il problema degli allenatori è stato questo, che per anni noi non ci siamo seduti dal lato guidatore, ma dal lato passeggero, abbiamo fatto guidare l'azienda e le aziende non hanno le capacità, le conoscenze biomeccaniche e la malizia che è necessaria per poter pianificare in maniera corretta. E questo è il motivo per cui a un certo punto ho deciso di saltare dall'altra parte, salire sul sedile del guidatore e prendere il controllo della situazione. Perché la mia idea era se succede qualcosa, se non mi funziona il trattamento, se sbaglio, voglio essere io ad aver sbagliato. Voglio essere io che ho sbagliato la pianificazione e soprattutto perché quello sarebbe stato l'unico modo per capire poi gli errori e imparare. E quindi ho imparato, non a guidare la Ferrari, ma ho imparato a guidare gli allenatori e questo mi ha permesso appunto oggi di poter utilizzare in maniera sostanzialmente uguale e proporre quindi in maniera uguale gli allenatori e l'apparecchiatore fisse nel mio studio. Quindi oggi nel mio studio, a parte veramente pochissimi casi, io non propongo una tecnica o l'altra, io spiego gli obiettivi del trattamento e poi a seconda delle esigenze del paziente dico che può essere trattato con un classico apparecchio fisso formato quindi da dei bracket, quindi dei rettangolini in metallo, un filo in metallo che riunisce tutti e che muovere i denti. Se il paziente vuole qualcosa di più estetico allora gli dico che sostituirò queste placchettine in metallo con delle placchettine bianche, ma il filo sarà sempre in metallo, se vuole qualcosa di ancora più estetico, io non parlo mai di invisibile, allora sostituirò anche il filo e invece avere un filo ci sarà una mascherina in plastica che coprirà questi bracket ceramici. Io utilizzo questo perché, questo modo per spiegare ai miei pazienti, perché faccio un grande uso, o tra virgolette, abuso di attachment. gli attachment per chi magari ha meno confidenza con gli allenatori. Cosa sono? Sono queste cose che costruiamo, queste forme che costruiamo, incolliamo sui denti con del composito, che servono da una parte aumentare la ritenzione sotto squadra per garantire che la mascherina calzi perfettamente, ma soprattutto creano un sistema di forze che interagisce, hanno una superficie, si chiama superficie attiva, che interagisce con la mascherina e crea una forza che muoverà il dente nella posizione finale. E seppur le aziende cerchino di fare degli attachment ottimizzati, gli attachment ottimizzati per le finizioni sono miniaturizzati, ci sono un attachment più piccolo possibile che può darmi quella trasmissione alla forza, un'ortodonzia ad oggi fatta con alta predecibilità come la mia, alta predecibilità vuol dire che riesco, ho un'ortodonzia con un allenatore efficace ed efficiente, cioè riesco in un tempo breve a muovere, breve nel senso una terapia di una lunghezza corretta, riesco ad avere un controllo tridimensionale della posizione dei denti, uso degli attachment più grandi, perché l'attachment ottimizzato per definizione miniaturizzato, gli attachment convenzionali, cioè io uso dei rettangoli essenzialmente, invece sono più grandi. E questo cosa vuol dire? Che hanno una superficie attiva di spinta maggiore. E vi ho detto prima, inizio l'azione, che è maggiore la superficie di spinta, più controllo ho. E quindi quando devo promuovere la mia tecnica invisibile, non dico che è completamente visibile, perché ci saranno questi attachment che poi sono bianchi, sono fatti dei composite traslucenti, quindi sono poco percepibili, a un'istanza di un metro e mezzo o due non si vedono, però è qualcosa che voglio comunicare al paziente. Tornando alla casistica clinica, l'obiettivo di questa breve relazione è quello di mostrarvi semplicemente dei casi appartenenti a diverse categorie di maloccasioni, e vedere insieme il prima e il dopo, vedere come ho pianificato i trattamenti per, come dire, sottolineare le capacità, le possibilità degli allineatori nell'aumento della facilità. E partiamo con questo caso, con un ragazzo di Napoli che studia a Milano e viene a trovarmi in uno studio importante in Centro Milano dove lavoro e faccio consulenza da ormai 12 anni. Lui viene a trovarmi sostanzialmente per un problema, ma non gli piace il sorriso, vede che ha un sorriso nettamente stretto, ha dei corridoi bucali fortemente rappresentati e ha un torque fortemente negativo che si torna l'altro posteriore e superiore, quindi vuole avere un sorriso più piacevole, più pieno, mi dice. Guardiamo la situazione dal punto di vista dentale, questa è la panoramica, questa è invece l'altro laterale che ci fa vedere che è un paziente sostanzialmente con una seconda classe di 7 gradi, è un paziente normodivergente con forse un terzo inferiore del volto aumentato e con la tendenza al morso aperto. Queste sono le problematiche del paziente dal punto di vista dentale che sono quelle che ci interessano il più. Ho scelto come primo caso un caso semplice, nel senso che il paziente presenta una prima classe bilaterale sia molare che cammina, quindi dal punto di vista antroposteriore è perfetto. C'è una deviazione della linea mediana inferiore rispetto verso destra, la superiore come potete vedere dal filtro è perfettamente centrata, c'è un torque eccessivamente negativo nel settore latro posteriore e superiori con un arcato superiore fortemente contratta e con una forma V, mentre l'arcato inferiore ha una forma AU e presenta appunto un affollamento. Come dicevo prima, dal punto di vista scheletrico ma anche dal punto di vista dentale, questo paziente presenta una tendenza all'open bite, cioè ha un over bite minimo di 0,5 e questi, per chi ha un po' di esperienza, sa, sono i casi più difficili da trattare con le apparecchiature fisse. Io solitamente non do il messaggio che quegli allenatori delle cose si facciano meglio che con l'apparecchiature fisse. Per me nel 90% dei casi funzionano allo stesso modo, bene allo stesso modo, ma c'è un paziente in cui l'allenatore funziona meglio che è il paziente con la tendenza al morso aperto o addirittura il paziente con il morso aperto. Questo per una semplice ragione che dal punto di vista biomeccanico tutte le tecniche straight wire, tutte le apparecchiature a filo continuo, sono apparecchiature per definizione estrusive, cioè quando mettiamo due bracket con gli slot slivellati, sarà più facile che un dente estruda piuttosto che l'altro intrude, quindi tendono a estrudere, tendono ad aprire il morso e ad aumentare le dimensioni verticali. Questo è il motivo per cui, come dicevo prima, è facile aprire i morsi con il straight wire. Al contrario, gli allenatori non sono per niente a tecnica estrusiva, quindi è più difficile aprire il morso, però poi vi farò vedere dei casi e come lo gestisco io, ma dal punto di vista del controllo di verticalità, siccome non è una tecnica estrusiva, si ha un perfetto controllo che serve soprattutto in questo tipo di pazienti con la tendenza open bite. Abbiamo pochissimo affollamento sopra, 4 metri affollamento sotto, il 43 meso inclinato, il meso verso, e questa, vabbè, è la mia simulazione dove ci tengo a prevedere una cosa. La mia simulazione sono 34 allineatori. La casa madre mi dava 13 allineatori. 13 allineatori, a casa mia, cambiano una volta a settimana, sono 13 settimane, sono 3 mesi. Non può funzionare, non può funzionare in 3 mesi, perderò sicuramente il controllo. Un altro problema era che il setup pianificato da casa madre, che non ha la sensibilità diagnostica che ho io, non teniva in considerazione il biotipo gengivale e il biotipo scheletico al paziente. Questo è un paziente che ha un biotipo gengivale sottile, ha la tendenza già a recessione sul 31. Dal punto di vista della simfisi, vedete com'è stretta, ok? E loro avevano deciso di risolvere quella quantità di affollamento tra 4 mm esclusivamente propinando incisivi. Questa cosa, se l'avessi accettata, a patto che in 3 allineatori non sarebbe verificata, avrei finito per avere un danno dei tessuti duri e molli buccali, diciamo, incisivi inferiori. Il mio setup è un setup diverso in cui sono io che pianifico la posizione finale degli incisivi, io che decido il limite anteriore dei denti inferiori, le incise inferiori e lo faccio appunto in base alle caratteristiche biologiche del paziente e chiedo in questo caso 34 allineatori. Un'altra cosa è che gli allineatori muovono sempre tutti i denti, ma se tu hai dei denti perfettamente ingrenati, come in questo caso gli ottavi, i settimi, non vanno mossi perché se non li muovi ti daranno un sacco di ancoraggio che ti permetterà di avere molto più controllo perché se muovi tutto perdi il controllo, se hai sempre l'unità di ancoraggio tutto funziona meglio, questa è un'altra regola degli allineatori. Ovviamente per tenere l'incisione inferiore indietro dovrò fare un po' di stripping, ma questa è una cosa che non mi preoccupa e anche in questo caso mentre è una carta sopra loro avrebbero espanso tutto, io tengo gli ottavi, i settimi fermi e mi permetto di espandere solo nella zona di premolare canini perché devo cambiare il tocco negativo e dare un sorriso più pieno. Queste sono le mie modifiche in quantità di espansione e questa è la cosa più importante. Per chi approccia oggi agli allineatori un consiglio più importante è questo. Guardate la visione a sinistra, questa, loro, in tutte le case di allineatori tendono a crearvi dei setup finali ideali con quello che si chiama light contact. Se voi accettate questo tipo di simulazione finirete ad avere un morso aperto posteriore perché tutte le apparecchiature di plastica degli allineatori sono poco performanti nel controllo overbite, quindi aprire il morso, o nel controllo del torque del gruppo frontale. quindi si rischia sempre di avere qualche perda di controllo anteriore che vi dà un contatto prematuro e sviluppo il morso aperto posteriore. Uno dei segreti per cui io non ho più morso aperto posteriore è perché pianifico tutti i miei clean check con due millimetri e mezzo, due millimetri e mezzo di overjet da canino a canino. Questo poi clinicamente non si verificherà, arriverò ad avere comunque un light contact, addosso non ce l'ho, giungerò poi due o tre allineatori sopra con un po' di PR alla ricerca dell'head contact, ok? Ma è fondamentale che questo verjet ci sia non solo dall'aterale laterale ma da canino a canino. Questo è il motivo per cui i canini sopra li metto sempre in posizione da prating o come piace dire noi a torque zero. Quindi consegno al mio primo set allineatore che sono 34 quindi 8 mesi e mezzo e così è come arrivo alla fine della primo set dell'allenatore. Questo vuol dire avere controllo, non ho perso l'occasione posteriore, sono riuscito a risolvere il raffollamento sotto, a cambiare la forma marcata sopra, il torque, devo solo finalizzare e fare quello che si chiama additional line ormai del refinement che sono in questo caso 8 allineatori. Devo solo trovare il settling. Quindi il paziente fa 11 mesi di terapia meno che con lo straight wire, questi sono i pochi casi in cui la terapia con gli allineatori è durata meno che con lo straight wire, 11 mesi e questo è il nuovo sorriso del paziente. Un paziente è un sorriso più simmetrico, più pieno perché abbiamo espanso e messo a torque zero tutti i settori l'altro posteriori, abbiamo perfettamente risolto l'affollamento, abbiamo sembrato perfettamente l'inimediale, mantenendo un perfetto ingranaggio nei settori posteriori con anche gli ottavi perché lui aveva un 48, se non sbaglio, il 18 e il 28. Questo siamo riusciti a tenerlo semplicemente perché abbiamo pianificato da noi il movimento, la posizione finale e gli attaccio necessari per arrivare a quel punto. Se ci fossero affidati al primo setup, 13 allenatori e tre mesi avremmo perso il controllo, si sarebbe sviluppato un paio in un morso aperto posteriore per il proprio contatto e avremmo sicuramente perso il trattamento, perso, nel senso non raggiunto l'obiettivo. Questo è appunto il primo e dopo del paziente ed è un caso abbastanza semplice, rutinario. La verità è che la maggior parte dei pazienti che vengono al mio studio sono pazienti che presentano una seconda classe come dicevo prima e quindi la domanda è l'allinatore può essere oggi una soluzione, un'alternativa terapeutica per il trattamento di una seconda classe? Ve lo farvi rispondo facendovi vedere una serie di casi con meccaniche diverse. Il primo è Steven, questo ragazzo di 17 anni, è un ragazzo italo-cinese, la mamma italiana e il papà è cinese che viene a trovarmi nel mio studio tra date perché hanno genitori in una pizzeria e quindi spesso in pausa pranzo ordiniamo la pizza, un giorno portandomi la pizza vede un vaso che ho in segreteria pieno di allineatori trasparenti e mi chiede ma posso essere anch'io trattato con questo perché il mio dentista mi dice che devo mettere la parica fisso e ho 17 anni e sono capitano della squadra del rugby bla 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 non voglio cose che si vedano e ha una situazione fortemente problematica perché questa è la problematica di Steven, abbiamo una seconda classe piena bilaterale, siamo sui 5.5 mm e mezzo a sinistra e 7 minuti in seconda classe a destra quindi è un full class 2 abbiamo una derivazione di linea mediana superiore abbiamo i primi monali superiori come in tutte le seconde classi che tendono a essere mesioversi ma soprattutto abbiamo i secondi peronali inferiori che sono ruotati all'incirca 70 gradi dovete sapere che la letteratura ci dice che quando i peronali devono essere ruotati più di 30-40 gradi non è predecibile il movimento ma questo lo dice la letteratura e lo dicono anche la casa madre quindi sostanzialmente in un caso come questo avrei dovuto affidarmi a degli ausiliari o dell'altro abbiamo poi 7 mm over jet che sono lo specchio della full class 2 della seconda classe piena e anche un morso profondo guardate il modellino da dietro abbiamo 5,5 mm over byte o quindi un 90% di morso profondo queste le rotazioni le abbiamo già viste abbiamo un bolton alterato questo è importante perché avere la possibilità facendo dello stripping di ribilanciare il bolton mi può aiutare in un caso come questo a come cosa a far cosa durante tutta la meccanica di seconda classe a dar retranci di sotto per contrastare gli effetti avversi delle mie meccaniche questa è la panoramica di Steven in cui toglieremo le detti del giudizio e prima iniziale perché faremo distalizzazione e questa è la lateral quindi abbiamo 7 gradi in seconda classe scheletrica in una seconda classe scheletrica e dentale in un paziente che tende alla è normodivergente tende all'iperdivergenza e per una serie di ragioni tra cui il fatto che lui è un giovane adulto per un paziente a fine crescita decido di trattare la malocosione distalizzando ogni volta che pianifico una simulazione ho 5 step 5 fasi in cui io faccio la review del setup che mi viene inviato addirittura non sono uno di quelli che lo accetta subito ma addirittura faccio 5 review ognuna legata a una cosa diversa ovviamente oggi non avremo tempo di vedere tutti gli step che utilizzo per ogni mio paziente però in questo caso ho deciso di utilizzare un protocollo di distalizzazione sequenziale in cui i denti vengono distalizzati partono i settimi quando i settimi sono un terzo del loro percorso partono i sesti poi partono i quinti quando siamo un terzo del percorso dei sesti e due terzi del percorso dei settimi quindi quando partono i quarti cioè i primi primolari i settimi sono in posizione questo è un pattern ufficiale che ormai utilizziamo tutti gli anni che funziona perfettamente per avere un controllo durante tutto il movimento di distalizzazione quello che è fondamentale pianificare è quindi non solo la quantità di movimento per ogni singolo allineatore e quanti denti muoverò insieme durante la distalizzazione ma è che siccome il paziente è la seconda classe dovrò al contempo distalizzare ma deruotare molari e espandere perché nelle seconde classi la letteratura ci dice che abbiamo sempre un deficit della casa superiore di 3,5 mm quindi se voglio accogliere o meglio sì coordinare la casa dal punto di vista sagittale avrò bisogno di espandere e il movimento di distalizzazione distalizzazione ed espansione può essere pianificato con gli allenatori contestualmente tutti allo stesso modo l'importante è poi quando arretriamo il gruppo frontale una volta che abbiamo distalizzato i settori posteriori li manteremo in chiave dobbiamo prendere gli ultimi denti da canino a canino e arretrarli o da incisivo o da arretrarli quello è un momento particolare perché perché ogni volta in ortonzia che noi prendiamo gli incisivi e li arretriamo dovete sapere che tendiamo a perdere torque cioè a retroinclinarli invece che arretrarli indietro con un movimento corporeo il movimento corporeo è più difficile di ottenere quelli del lineatore e questa cosa si verifica anche con gli apparecchiatori fissi con il set wire io uso il MBT per quello che c'è una prescrizione di extra torque di 17 gradi perché sappiamo che mentre portiamo indietro incisivi tendono a perdere torque perché c'è il play tra il filo e lo slot anche con gli allenatori c'è un play tra il dente e la mascherina e quindi dovrò dare anche lì dell'extra torque vedete le mie pianificazioni rispetto a quelle che escono dalla casa madre io associo ad ogni momento di arretramento dell'intrusione dell'intrusione dell'extra palata torche e dell'intrusione che mi garantirà un perfetto fittico e un perfetto controllo della posizione l'inciso inferiore è il dente determinante per una correzione a seconda classe perché la biomeccanica è solo una e qualsiasi modo voi utilizzate per trattare una seconda classe salvo forse dei miniviti userete sempre degli elastici che avranno come effetto desiderato è quella di perdere in creazione degli incisi superiori e proclinare eccessivamente gli incisi inferiori e queste meccaniche cioè scusate questi affetti avversi della meccanica della seconda classe ci sono in tutte le meccaniche settuali ma ci sono anche con gli allineatori peccato che i tecnici che ci pianificano il setup ideale non tengono in considerazione gli affetti avversi della meccanica che quindi se io pianifico di finire con un incisivo a 90 gradi finirò a 93-94 perché sotto la forza degli elastici tenderà a proclinarsi e quindi cosa devo fare io quello che devo fare è semplicemente contrastare la tendenza incisiva a proclinarsi lo farò in questo modo vedete durante la posizione finale il mio inciso inferiore è più arretrata rispetto alla posizione iniziale in maniera che durante tutta la terapia l'incisivo tenda a arretrare in questo modo a contrastare quindi la tendenza dell'incisivo cioè del sudelastico a proclinarlo questo è il mio setup con 2 mm del jet e dopo 18 mesi di terapia in cui appunto ho distalizzato dente dopo dente questo è come arrivo in finitura con un perfetto ingranaggio bilaterale non ho perso l'occusione non mi si è aperto il morso posteriore ho ricentrato le mediane ho aperto il morso perfettamente ho portato tutti i denti in prima classe ho ruotato i due premolari che la casa madre nel territorio mi dice più di 30 gradi o 40 gradi non può ruotarli a 70 gradi ma sono riuscito a ruotarli come usando sempre delle biomeccaniche di staging attachment un momento in cui inizia l'ente a essere mosso in particolare da sopra è stata espansa guardate rispetto alla posizione iniziale come ho cambiato la forma come i monali sono ruotati e a quel punto devo fare quella che davvero è una finitura non quelli che fanno allinatori fanno 40 mascherine e poi ne fanno altre 30 quella non è finitura per lei non avere tutto il controllo ma se tu pianifichi tutto hai il controllo biomeccanico della situazione ecco che puoi in tre mesi far schiantare l'occasione e in 21 mesi in totale prendere un paziente con una full class 2 e solo distalizzando mantenendo un montor ottenere questo tipo di risultato queste sono le lastre finali la natura finale dove si vede che dal punto di vista scheletico ovviamente non è cambiato nulla ma dal punto di vista dentale abbiamo preso un paziente guardate qua nella comparazione da una seconda classe piena bilaterale l'abbiamo portato in prima classe questo con un meccanismo di distalizzazione quindi la distalizzazione oggi è una cosa che con gli allenatori io ho iniziato ad usare veramente tantissimo perché si è pianificata correttamente in termini degli attaccio da utilizzare in termini di staging in termini di quantità di movimento per l'allenatore ecco che è estremamente prevecibile ovviamente si parte dal presupposto che il paziente collabori perché se il paziente non collabora non ti mette gli elastici tutto il tempo in cui mette le mascherine perdi perdi il controllo incominci a perdere il fitting e più fitting perdi cioè meno dentro la mascherina più effetti desiderati hai e quindi bisogna stare veramente come dire accorti a questa cosa però dall'altra parte io sono convinto che in ortanzia se non c'è collaborazione è meglio non farlo sostanzialmente è vero che esistono terapie non compliance ma un po' di collaborazione da qualche parte ci vuole che sono in igiene eccetera ma se il paziente non è il motivato non è un paziente che va bene per me per il mio studio insomma vediamo se però questo tipo di meccanica funziona sempre in questo caso abbiamo Sofia che tra l'altro è una compagna di classe di Steven anche lei ovviamente ritradata anche lei ha 17 anni quindi una giovane adulta o un leader adolescente a fine crescita sicuro è una situazione simile dal punto di vista della classificazione perché anche lei è una seconda classe in questo caso non è una seconda classe prima divisione ma è una seconda classe seconda divisione cioè gli incisi di centrali sono retronchinati e iperestrusi questa è la quantità di problematica prudentale ancora una volta abbiamo una seconda classe piena bilaterale con un mosso super profondo tanto è vero che lei rispetto a Steven è una paziente che ha un pattern scheletico diverso anche lei 7 gradi 6 gradi di NB quindi seconda classe scheletica ma il piano mascellare mandibolare è perfettamente parallelo quindi è una paziente normo addirittura ipodivergente quali sono le problematiche di questa ragazza abbiamo una full class subilaterale guardate molare perfettamente in seconda classe sia a destra che a sinistra e il canino stesso modo abbiamo una diversione leggera delle mediane che non ci preoccupa abbiamo però una seconda classe seconda divisione guardate gli incisivi come sono fortemente retronchinati si vede anche qua dal video non c'è affollamento inarcata sotto abbiamo un morso profondo del 90% 5.500 e mezzo e ovviamente i monari che sono ruotati quello che vedrete è che la maggior parte delle mie seconde classi non hanno affollamento questo è fondamentale perché se non è presente affollamento posso permettermi durante l'altamento di portare indietro incisivi se è presente tanto affollamento non puoi pretendere di allineare i denti e contemporaneamente accorciare l'arcata perché l'allineamento richiede spazio ok questo è un concetto che spesso sfugge a chi approccia e utilizza dagli allenatori il primo principio base degli allenatori è che i denti hanno bisogno di spazio per muoversi e l'allineamento cioè la risoluzione e l'affollamento inoltre si fa sempre in espansione in proclinazione cioè la ricerca di spazio immaginiamo quando mettiamo un po' di brackets e dei tubi mettiamo un arco l'arco lo leghiamo tecnica classica vestibolare da vestibolare lo ingaggiamo in uno slot leghiamo lo succederà che l'arco tendrà a espandere un po' tutto fare un po' di uprighting nel settore posteriore proclinare l'incisivo e quindi guadagneremo spazio per poter allineare i denti anche con gli allenatori è fondamentale allineare i denti in proclinazione e in espansione altrimenti rischiate solo di avere delle collisioni cioè quelli che provano ogni tanto allineare i denti mentre magari portano fuori il dento portano fuori proprio in un incisivo e portano dentro un altro anche se nel video sembra che i due denti non si toccano spessissimo poi siano delle intercollisioni legate al fatto che i denti sono mobili durante il trattamento ortodontico e quindi poi per alta di controllo nel caso di Sofia il clean check mi viene fatto è un clean check il primo clean check mi viene fatto è un clean check che non mi piace perché mi ha fatto uno stage in particolare della proclinazione degli incisivi usavano degli attachment troppo piccoli per me ma soprattutto il tempo era estremamente lungo parliamo di 84 lineatori che equivale a quasi due anni in terapia solo per fare la prima fase dove al 99% dei casi va tutto per in Chile ma se succede qualcosa che cosa faccio in più lei ha 17 anni vuole arrivare a 18 anni togliendo l'apparecchio e questo è il motivo per cui vi presento apposta in questo caso ho deciso ho deciso di utilizzare un ausiliario ok quindi invece di fare la distalizzazione sequenziale che è quella che vi ho fatto vedere prima cioè dente dopo dente spingo indietro settimi, sessi, cinque, quinti eccetera qua faccio una distalizzazione segmentale cioè contemporaneamente distalizzerò tutti i settori dati posteriore da 3 a 7 quindi dal carino secondo monale contemporaneamente nei primi 4, 5, 6 mesi e trasformerò quindi una seconda la full cast 2 in una prima e poi dovrò solo concentrarmi sulla retrava del gruppo frontale a questo punto lo faccio con questo sistema di distalizzazione sequenziale che fa tre cose fa la distalizzazione contemporaneamente distor ruota i monari e li fanno e fa anche un upright perché è quello che mi sono dimenticato di dirvi che in tutte le seconde classi come ho detto c'è sempre la problematica trasversale i monari sono mesi ruotati ma i monari superiori tendono ad essere mesi ruotati ma sono anche mesi ruotati questa è l'unica parrucchiatura che contemporaneamente distor ruota distotipa o fa uprighting e distalizza nella casa superiore e lo fa in un periodo estremamente breve 4-6 mesi ma soprattutto lo fa nel periodo di massima collaborazione del paziente che è inizio terapia perché io mi ricordo quando facevo lo straight wire ci mettevo un anno per allineare livellare arrivare su archi in acciaio quello era il momento in cui dicevo paziente caro paziente adesso partiamo con gli erassi il paziente era già pieno le scatole e lo stufo questa è l'unica parrucchiatura che esiste che appunto sfrutta il picco di complessi del paziente che è quello iniziale e quindi che cosa faccio? lo utilizzo in combinazione con gli allineatori nella casa sotto ho i miei allineatori che serviranno appunto a incominciare a eliminare gli incisivi portali indietro per tirare la curva di spe nella casa sopra ho questo pezzo di apparecchiatura fissa che va da canino a sesso assolutamente invisibile che però trasfererà con delle forze importanti distalizzerà da canino a settimo e in questo caso dato che avevano due a due quindi gli incisivi sono retroinclinati quello che faccio è ho aggiunto anche un pezzettino di mascherina di allineatore solo nella casa sopra le due a due per incominciare a darle un'estetica del gruppo frontale e questo è come arrivo dopo cinque mesi di terapia ok quindi io parto con una full class 2 e dopo cinque mesi qua e quando tolgo questo pezzettino ho ottenuto questo ho ottenuto una perfetta correzione della seconda classe sette minuti in correzione ma soprattutto le cose più belle le ho ottenute guardando da davanti cioè da davanti ho aperto il morso che è una cosa più difficile ad adattare con gli attori qua l'ho trattato velocissimamente perché mi ha fatto effetto fulcro la digitalizzazione così segmentale ho migliorato l'estetica degli incisivi quindi dal punto di vista estetico lei è sicuramente più contenta e ho anche lavorato ho anche avuto come effetto quello di cambiare migliorare la price nei settori lateri posteriori superiori quindi cambiato il torque portati la price a quel punto il caso diventa un caso semplicissimo cinque mesi fa era un caso difficilissimo oggi è un caso semplicissimo non devo fare nient'altro che scansionare il paziente rimuovamente quel presidio e in altri sette mesi arretrerò le incisive mentre li arretro so che tenderanno a perdere le torque quindi farò arretramento associato a intrusione extra parata root torque questo è un motivo molto bello secondo me un sorriso molto naturale un sorriso molto largo con un bel torno ai settori posteriori le linee venivano centrate ho risolto l'affollamento ho risolto la 2-2 e ho i lenti che ingranano perfettamente ok questa è la panoramica finale ci vuol dire che abbiamo un buon parallelismo radicolare e la possibilità scheletica ovviamente nulla è cambiato abbiamo ovviamente avuto un compenso a diventare inciso sopra si è leggermente dentro l'inclinato quello sotto si è proclinato ma è assolutamente un buon compenso prendere una paziente a fine crescita a 17 anni e portarla da quella situazione in quella situazione con due pezzi di plastica sostanzialmente in 12 mesi beh qualcosa che nel mio studio o nella mia testa era inimmaginabile fino a qualche anno fa oggi è la mia routine oggi tutte le mie seconde classi sono trattate con questo approccio ibrido la maggior parte perché mi permette di chiudere casi in 12-14 mesi ma soprattutto con una predecibilità veramente veramente alta e questa è la sovrapposizione tra il prima e il dopo vediamo invece adesso ok un'altra seconda classe questa invece è Clara Clara è un'altra seconda classe in questo caso però è una seconda classe in crescita è una ragazzina di 13 anni che presentano malucosione che ha un po' di problematiche in tutti i tre piani dello spazio dal punto di vista del profilo si vede come ha un solco labio mentoniero estremamente accentuato segno di una simfisi arretrata segno di un incisivo proclinato e segno soprattutto di un overgetto importante in cui il labbro inferiore si infila diverso e dalle foto del volto un'altra cosa che proprio non mi piace è l'esposizione dei incisivi cioè quando sorride si vedono tantissimo incisivi dal punto di vista verticale l'80% dei miei pazienti ma forse anche il 90% quando ha un morso profondo deve lavorare solo sulla clata inferiore perché hanno una buona exposure quella che si chiama l'esposizione incisivi al sorriso anche perché dobbiamo tenere conto che il paziente invecchierà pian piano che invecchia il labbro superiore copre sempre più incisivo superiore quindi dobbiamo sempre posizionarlo bene nel punto di vista verticale lei è uno dei rarissimi casi in cui dovrò aprire il morso che qua c'è un morso profondissimo lavorando anche sull'intrusione incisivo sopra proprio per migliorare l'estetica e l'exposure questa è la problem list di Clara anche lei ovviamente stiamo parlando di seconda classe è una seconda classe piena bilaterale questa è la quantità di seconda classe che le foto magari non si vede perfettamente abbiamo il canino che sono 7 minuti di seconda classe a destra quindi è una full class 2 completa abbiamo in questo caso delle misurotazioni non premolari sotto non così complesse come il caso precedente i 1626 sono fortemente misurotati come in tutte le seconde classi in questo caso abbiamo un problema anche trasversale l'arcata sopra è stretta trasversalmente ma c'è quello che noi ortodontisti chiamiamo brodi cioè una chiusura in cui l'arcata o meglio un dente singolo in questo caso brodi solo delle dente quattorici le dente quattorici è completamente fuori dall'arcata e quindi non ha alcun tipo di contatto se tu quel dente non lo riposizioni e su un esposso il problema possibile rischi che continua a estruire continui scusate ad estruire ok quindi abbiamo quello che si chiama anche scissorby la casa sicurea di contratta e abbiamo una curva di viso un inferiore accentuata che invece dovremo andare ad appiattire la quantità di overjet corrisponde alla quantità di classe quindi abbiamo 7 mm di seconda classe piena i 7 mm di overjet abbiamo un biastema che forse era l'unica cosa che preoccupava Clara e abbiamo un morso profondo ai 7 mm di quello che io chiamo il 100% questo spaccato vi fa vedere esattamente che l'incisivo inferiore tocca praticamente la gengiva o sul cingolo dell'incisivo superiore quindi un morso profondo completo associato a una curva di spe non troppo accentuata non troppo profonda perché c'è proprio il fatto degli incisivi superiori che sono iperestrusi questa è la panoramica di Clara la latola laterale faccio vedere che la problematica è sia scredica che dentale e qua è come ho pianificato il trattamento in questo caso nel paziente di crescita preferisco quasi sempre non fare una ristralizzazione ristralizzazione è un compenso dentale di una problematica scredica che io preferisco fare nel paziente a fine crescita ma se ho un potenziale di crescita cerco di sfruttarlo una domanda che mi faccio sempre una volta che devo decidere come trattare i miei pazienti e questa diagnosi è come tratterei questo paziente con lo setwire e a quel punto quello che faccio è semplicemente tradurre traslare le mie meccaniche negli allineatori nel linguaggio allineatori e ottenere un risultato claro se fosse venuta in un studio e avesse chiesto un trattamento con lo setwire avrei bandato sopra e sotto allineato livellato marchi di lavoro elastici di seconda classe la stessa cosa la faccio con gli allenatori ovviamente e questa è un'altra cosa importante che le case madri i tecnici che ci pianificano i trattamenti non prendono in considerazione è che gli elastici per poter funzionare hanno bisogno di quello che si chiamano lo sblocco mandicubolare o hanno bisogno almeno della coordinazione trasversale delle arcate cioè fin quando il macellare è stretto la mandibola non può è un compresso del problema inferiore ma poi vedremo che sarà la mandibola non può venire in avanti è un po' il piede stretto che non può andare nella scarpa e quindi questo è il motivo per cui prima allineiamo quindi coordiniamo trasversalmente le arcate poi livelliamo cioè apriamo la spe perché anche in questo caso se sono un morso profondo come a lei e voglio portare elastici ma se c'è un morso profondo non andrà in nessuna parte quindi prima devo appiattire i piani inclusali da quando ci siamo messi a dare gli allineatori la maggior parte dei colleghi hanno dimenticato queste queste nozioni e quindi siccome la casa madre ti dice che devi trattarlo con gli elastici allora dalla prima allineatore gli danno gli elastici questa cosa non può funzionare poi si dicono che gli elastici o gli allenatori non funzionano è che biomeccanicamente devi aspettare per coordinato prima trasversalmente verticalmente le arcate e solo a quel punto dare gli elastici quando le arcate sono pronte per fare il salto a quel punto userò elastici per un quarto mese di 22 ore al giorno quindi sempre questo è il motivo per cui nonostante per la casa madre siano sufficienti 16 allineatori cioè 4 mesi di trattamento per risolvere la situazione io so che per trattare una seconda classe piena un paziente cresce da con elastici ho bisogno di almeno 7-8 mesi in più prima devo allineare livellare quindi richiedo io il numero allineatore sono io che decido il numero allineatore in questo caso decido 48 allineatori quindi un anno nella carta sotto devo fare un'apertura del morso perché c'è un morso molto importante proprio perché ho talmente tanti allineatori da utilizzare per colgire la seconda classe invece di fare quella che si chiama l'intrusione di tutti i denti contemporaneamente come si vede qua sul video a sinistra io farò un'intrusione settoriale prima intrudo solo i canini per 8 allineatori e poi solo incisivi per 8 allineatori poi solo i canini e sono incisivi quindi ho sempre dei denti che fanno ancoraggio e ho sempre dei denti che si muovono questo è il metodo migliore per poter aprire il morso in maniera predecibile con gli allineatori ancora una volta ricordiamoci più denti muoviamo contemporaneamente se muoviamo tutti i denti contemporaneamente meno controllo abbiamo se muoviamo gruppi di denti ecco che avremo sicuramente il maggior controllo nella carta superiore abbiamo detto che dobbiamo fare un'intrusione in questo caso l'intrusione è legata anche all'arretramento e all'extra parata al root torque quindi mi aiuterò con dei bite ramp per ottenerla e questo è come porto Clara a fine delle 12 mesi cioè a fine delle 12 mesi io ho centrato tutti gli obiettivi perché Clara adesso è in prima classe molare e carina bilaterale abbiamo recentrato le mediane abbiamo ridotto l'overjet che ricordate era 7 mm abbiamo aperto abbiamo aperto il morso abbiamo risolto le rotazioni abbiamo allineato tutto abbiamo risposto il caldo superiore abbiamo risolto il brodi il schistor bite dobbiamo solo perfezionare qualcosina quindi lo facciamo con 5 mesi di allineatore in 18 mesi che è il tempo stesso che ci avrei messo con lo straight quality 17 mesi ecco questa è Clara nel suo nuovo nel suo nuovo sorriso abbiamo un profilo che è un profilo molto migliore dal punto di vista della proiezione del mento ma guardate l'exposure incisivo abbiamo un sorriso pieno con un bel torque nei settori latri posteriori e l'incisivo superiore che è stato estruso è un exposure perfetto che si vede in tutti e tre piani sorriso e questo l'abbiamo fatto esclusivamente con dei pezzettini di plastica e degli elastici devo dire che questo è stato il mio primo caso trattato con gli allineatori in un paziente in crescita degli elastici un po' di anni fa e da quel momento è diventato il master del mio studio cioè ogni paziente in seconda classe morso profondo in crescita viene trattato con questo protocollo che ha sostituito il mio protocollo SETWIRE da ormai qualche anno e funziona perfettamente in maniera estremamente predecibile ripetibile e riproducibile guardate quanto siamo riusciti ad aprire il morso quindi qua quando alcuni colleghi mi dicono con gli allenatori non si può correggere il morso profondo beh questo dipende da chi progetta la terapia e se chi progetta la terapia ha le conoscenze biomeccaniche giuste o se invece facciamo pianificare il trattamento a qualcun altro che non siamo noi vediamo un altro caso adesso andiamo ancora più sul morso profondo ok quindi siamo partiti da un classico caso di affollamento in cui abbiamo lavorato molto sull'espansione poi vi ho fatto vedere tre casi di seconda classe bilaterale uno trattato con distalizzazione sequenziale dentro da podente Steven poi distalizzazione segmentale tutto il gruppo laterale poi l'arretramento in 12 mesi e poi Clara paziente in crescita trattata con la meccanica che si chiama interarcata con gli allenatori adesso vediamo Fabio e di qua ci siamo vicinati al morso profondo perché lei comunque aveva un 5 minuti e mezzo 6 minuti di morso profondo cioè comunque era un 100% di morso profondo Fabio invece è un ragazzo di 44 anni un amico che conosco durante una vacanza con degli amici che abita molto lontano dal mio studio ma un giorno il suo dentista quando si reca a fare il suo igiene a me un quotidiano del suo igiene semestrale gli dice guarda Fabio forse è il caso che facciamo qualcosa perché hai un po' di morso profondo e lui dice al suo dentista ma però è strano perché io ho già fatto un'ortonsia quindi mi sembra proprio strano e quindi chiama mi manda un WhatsApp e dice se possiamo passare a trovare di studio perché vorrei capire se è vero che ho una malocclusione o meno ovviamente io come tutti noi dentisti ai nostri amici facciamo subito l'analisi dei denti anche quando siamo in vacanza quindi già sapevo che aveva una malocclusione severa quel che non sapevo che lui era stato trattato da adolescente era stato trattato con un espansore una headgear quindi un baffo e quattro estrazioni e il multibandaggio quindi aveva fatto tutto il fattibile in attrazione eppure nulla è stabile nella vita e quindi era recidivato in maniera profonda ed effettivamente sì aveva ragione il collega dello studio sul dentista aveva un morso fortemente profondo in più qua ci sono una serie di tante altre problematiche di Fabio Fabio ha una seconda classe leggera dal punto di vista molare ma guardate dal punto di vista canino abbiamo tre millimetri da entrambi lati ed è una seconda classe ancora una volta a seconda divisione un po' come Sofia perché ha incisivi centrali retroinclinati abbiamo due arcate però che non sono per niente coordinate tra di loro abbiamo una carta superiore stretta fortemente stretta a una distanza intercanina ridotta guardate anche il torque negativo dei canini superiori e una carta inferiore invece con una forma AU lo vedete queste cose non possono combaciare abbiamo bisogno di espandere la carta superiore abbiamo bisogno di coordinare trattamente le arcate e in più nella carta sotto abbiamo un affollamento severo abbiamo 4 mm e mezzo di affollamento severe meserotazioni in questo caso omolare sopra è anche un secondo premolare sotto i 70 gradi ma non lo sappiamo non ci preoccupa non c'è Verjet perché è una 2,2 e abbiamo 10 mm 9,5 mm di morso profondo questa è la scansione perché non ho le foto bocca aperte della quantità di morso profondo cioè lui ha qua c'è scritto 100% overbite ma è molto di più è 120% overbite cioè ha uno step tra il canino e il premolare di quasi 9 mm abbiamo detto il problema è che il morso profondo di Fabio non è solo dentale ma è anche scheletrico guardate qua abbiamo due piani accusali completamente diversi diciamo ma il problema è che il morso profondo è anche scheletrico abbiamo il piano mascellare mandibolare che sono completamente paralleli tra di loro per chi non si occupa di autonzia vi dico solo che gli americani che sono più semplici nelle classificazioni diagnostiche chiamano il morso profondo dentale simple divide e quando il morso profondo non è solo dentale ma è anche scheletrico complex divide questo per farvi capire quando il morso profondo non è solo dentale ma è anche scheletrico è molto più difficile trattarlo perché se un paziente ha le basi mascellari divergenti tra di loro è sufficiente che io dietro estrudo uno l'effetto forbice davanti effetto pulco davanti mi si apre tanto il morso quando un paziente ha i piani mascellari mandibolare paralleli al pavimento se tu dietro riesci a estrudere uno a prescindere che devi lavorare contro il muscolo eccetera davanti aprirai uno e quindi qua c'era veramente molta difficoltà l'unica cosa era questa retrogansione e bi-retrusione diciamo le incisive sia superiori che inferiori e quindi ogni volta che ho un paziente con un morso profondo questo è il mio protocollo che utilizzo con l'alienatore la prima cosa inserisco una reverse curve spie io arrivo dallo set wire e nello set wire ogni volta che devo aprire un morso se la mia la parchiatura non è capace di appiattire perfettamente il morso non è un problema a un certo punto tolgo un'arco in acciaio ci faccio delle pieghe che hanno una reverse curve spie e inserisco una reverse curve spie che mi come dire trasmetterà dalle forze e mi torneranno ad appettire perfettamente il piano accusale la stessa cosa si può fare con gli allenatori che cosa cambia che se questa è la curva di spie di Fabio inizioterapia questa è la curva di spie che io accetto cioè quella che loro mi propongono ha un piano accusale piatto vedete che il mio non è piatto proprio inverso ok da così a così scusate a così questo farà sì che ci saranno una trasmissione di forze che mi permetterà di appire il morso per fare questo devo creare quello che si chiama un working setup cioè il mio messaggio è sempre che il setup che mi fanno i tecnici è un setup ideale che tiene in considerazione banalmente le problematiche del paziente e ci dà un setup ideale che è uguale per tutti che il paziente arrivi da un morso profondo da un morso aperto da una seconda classe da una terza classe il setup ideale è uguale per tutti il setup non può essere accettato perché non tiene in considerazione le caratteristiche specifiche della malocclusione di un morso profondo non tiene in considerazione la scarsa velocità di alcuni movimenti e non tiene in considerazione le meccaniche avverse gli effetti avverse delle meccaniche ok l'obiettivo dell'autodontista è prendere il setup ideale che fanno i tecnici per noi e trasformarlo in quello che si chiama setup di lavoro che tiene in considerazione di tutte queste cose in questo caso scarsa velocità della pattura al morso allenatori va bene un accetto un setup col piano accusare piatto ma con un piano accusare inferiore con un reverso e come lo faccio? intrudendo maggiormente il gruppo frontale del canino al canino estrudendo la zona del primo molare del primo molare intrudendo il secondo molare dando del distal cron tip al secondo molare del distal cron tip al canino e del extralingual root torque agli incisi di sotto quindi viene disegnato disegno da me il setup finale e questo mi garantirà di avere un'espressione della forza che mi aiuterà di apertire la specie per fare questo poi avrò bisogno di usare degli attachment come dicevo prima gli attachment che propongono le case si chiamano attachment ottimizzati ma per aprire il morso gli attachment ottimizzati che la casa madre che utilizzo io propone sono degli attachment troppo piccoli nella superficie attiva che è quella che si viene a freccia che è troppo piccola e non riesce a dare né ritenzione e non riesce neanche ad aiutarmi nell'estrusione e quindi preferisco sostituire queste attachment delle attachment più brutti più grandi più cattivi più fastidio dall'inizio ma che funzionano rendono più preciso il mio trattamento e mi permetteranno quindi di essere efficace ed efficiente quindi non dover fare poi 50 rifiuti quindi metto le attacce le attacce rettangolari orizzontali sul quarto sul canino ok e li metto siccome noi li mettiamo sulla posizione finale dei denti li metto tutti in linea questo mi garanterà e riuscirà a vedere velocissimamente se i denti sono lineati o meno guardando solo se le attacce non saranno in linea o no durante la terapia quando li vedrò così che sono in linea ecco vuol dire perché allora abbiamo centrato l'obiettivo ancora una volta ne abbiamo già parlato prima farò dello frog staging cioè il morso profondo è severo ok invece di muovere tutti i denti con più temporaneamente muovo prima sono incisivi poi canini incisivi canini incisivi canini questa è la differenza tra questi staging il mio sicuramente più lungo ma più efficace perché ha miglior controllo e miglior trasmissione a forza questo è il caso di Fabio quindi 11 mesi della prima fase 45 allenatori più 20 di rifinitura 16 mesi di terapia e questo è il nuovo sorriso di Fabio un sorriso sicuramente più ampio un sorriso più pieno non abbiamo più ricordato il torque negativo dei canini superiori abbiamo perfettamente risolto la follamento sotto abbiamo ruotato i 70 gradi premolare ho cambiato la forma marcata sopra guardate la forma marcata sopra come è cambiata ho portato il paziente in prima e ho aperto il morso questo è ancora prima del reshaping dei margini incisivi come ho piattito il morso come ho piattito la curva di spio inferiore e questa è la nuova panoramica ok questa è la parte scheletrica e questo è il confronto tra il primo e dopo e direi che abbiamo ottenuto risultato abbiamo centrato l'obiettivo l'obiettivo è quello di aprire il morso e cambiare l'inclinazione guardate la forma marcata come è cambiata superiormente e direi che ci siamo riusciti quindi ancora una volta il messaggio è nelle nelle problematiche di natura verticale soprattutto nel morso profondo questa è la scansione inizioterapia fine terapia è possibile trattare i valenatori sì se si decide di prendere la versionazione e pianificare un setup che si chiama working setup degli attaccio incorretti e uno staging corretto cioè la trasmissione a forza velocezionamente voglio mostrare ancora quattro casi ok allora lui è Stefano Stefano è ve li faccio vedere per un motivo molto semplice i prossimi dei casi saranno due seconde classi di subdivisione le seconde classi di subdivisione sono quelli che da una parte sono in seconda classe e l'altra sono in prima o comunque hanno un'entità molto diversa in termini antoposteriori problematica da una parte all'altra quindi sono i casi assimmetrici e i casi assimmetrici sono quelli che sono più difficili adattare in generale con tutta l'ortolansia allora torniamo a Stefano Stefano ha infatti una seconda che questa è la panoramica quindi questo è step la latero-laterale che ci fa vedere che è un paziente normodivergente ha tendenza l'iperdivergenza e queste sono le problematiche dentali che sono quelle che poi dobbiamo discutere allora abbiamo una seconda classe piena a destra una full castu a destra a sinistra invece abbiamo una perfetta prima classe la linea mediana superiore è centrata la linea mediana inferiore è deviata ok questa è la cosa più importante da sapere cioè ogni volta che ho una seconda classe di subdivisione devo chiedermi se il problema di asimetria è dell'arcata sopra e l'arcata sotto in questo caso la linea mediana sopra la centrata era un problema mandibolare quindi quella che si chiama seconda classe di subdivisione tipo 1 e il fatto che ci sia una linea mediana inferiore a questa quantità di relazioni in classe si vede anche dalla simmetria all'arcata inferiore all'arcata superiore è benomale simmetrica cioè al punto di distante lo posteriore i primolari i canini molari sono nella stessa posizione e inferiormente invece c'è proprio una simmetria quindi è lì che dovrò lavorare il paziente presenta anche una curva di Wilson molto accentuata anche in questo caso simmetrica maggiore dove più in seconda classe una seconda classe con la divisione perché i incisivi superiori sono retto inclinati e sopra tutte le corone tendono a essere mesio inclinate un morso profondo del 100% in questo caso 7,5 mm guardate gli incisivi dove toccano abbiamo un affollamento severissimo anche da sopra sotto 6 mm e sopra invece 3 mm di affollamento questa è la quantità di morso profondo anche in questo caso che cosa farò farò quello che avrei fatto se avessi deciso di trattare Stefano con lo straight white bandato sopra e sotto allineo il livello elastici a destra per passare alla seconda classe nella prima e gli elastici quel punto li metto simmetrici di giorno cioè bilaterali di giorno solo sul lato da trattare di notte chiaramente il vantaggio dell'allineatore è che posso usare gli ottavi per fare una buona espansione della casa superiore in maniera predicibile ho tanto affollamento sotto essendo un morso profondo tenderò a propinare un po' incisivo ma non troppo perché ho un bolton alterato di un millimetro e sette il mio setup che accetto adesso comincio a diventare ripetitivo perché quello che faccio per un atto allineatore è sempre quello voglio dire e in questo caso chiederò un virtual jump antroposteriore simmetrico in cui vedete risimetrizzo l'arcata a fine terapia perché ho più effetto a destra questo lo faccio mettendo elastici medi bilaterali di giorno e pesanti solo di notte dal lato di destra dal morso profondo faccio sempre queste cose mi attaccio a rettangolari orizzontali super sottosquadrati e utilizzo una intrusione relativa con una tecnica segmentale cioè col frog staging non allineo e intrudo contemporaneamente tutti i denti ma lo faccio step by step quindi prima allineo e poi intrudo guardate la sua parte intrusiono un po' i canini fermo i canini partono i incisivi ok fermo i incisivi partono i canini quindi segmentale e ovviamente faccio una reverse curvo spi come intrudendo la canina al canino intrudendo 4 a 6 intrudendo i settimi distacrano tipi dei settimi misacrano tipi dei canini e extra lingua root torque degli incisivi questo è come porto il paziente a 12 mesi la cosa che preoccupava di più il paziente era l'affollamento gli avevano proposto l'instruzione incisivo che è assolutamente una scelta terapeutica corretta nulla di che io per una serie di valutazioni ho deciso di non estrarlo quello che preoccupava a me non era quello era il morso profondo la recensione delle problemi mediane e la correzione della classe ma guardate dopo 12 mesi dove arrivo a quel punto sì che la finitura con gli allenatori ha una finitura 3 mesi dove non faccio nient'altro che migliorare la posizione dei gruppi frontali come sempre e questo è Stefano a fine della terapia ok la mediana è un problema di massa centrata abbiamo ottenuto la perfetta classe prima classe bilaterale aperto al morso allineato tutto e risimetrizzato raccata sotto ok panoramica latero-laterale e questo è il confronto ok nel confronto si vede come c'è stato un ottimo controllo di tutti i movimenti raccata guardate anche solo tutti questi incisivi scusate dei titatorici settori latero-posteriori superiori che erano molto mesinclinati come sono tornati perfettamente dritti ripeto le meccaniche assimetiche sono le più difficili a trattare in generale l'autoranzia devo dire che gli allenatori sono assolutamente uno strumento efficace per le meccaniche assimetiche ok ve lo faccio vedere con quest'altro caso di Esther Esther è un caso anche questo bello bello severo direi è una seconda classe importante però più da un lato che dall'altro a destra addirittura sembra essere quasi in prima classe quindi abbiamo 2 mm di seconda classe destra 5 mm di seconda classe di sinistra con questi tip fortemente inclinati in tutti i settori lateri-posteriori anche lei è una seconda classe di seconda divisione guardate dal modellino che gira che collassamento che c'è del centrale dell'11 e il 12 abbiamo ok questa è la quantità di seconda classe abbiamo una simmetria dell'arcata superiore l'arcata inferiore è simmetica l'arcata superiore è fortemente simmetica quindi in questa cosa è una seconda classe di sua divisione si dice di tipo 2 dove la simmetria è legata al mascerale superiore e questa è quella in cui devo distalizzare troppo spesso vedo dei colleghi in cui vedono la seconda classe subdivisione ok seconda classe di una parte prima dell'altra in cui distalizzano che è il problema mandibolare quello vuol dire ricentrare tutto ma spostare le due mediane del paziente dal lato non centrare rispetto al volto ok qua bisogna invece ricentrare l'arcata superiore c'è appunto un severo misalcrown tip di tutti i settori atroposteriori superiori 6 milioni di traffollamento un po' come il paziente di prima e 5 milioni di traffollamento in questo caso questa è la quantità di morso profondo guardate 110 120 un altro morso profondo estremamente estremamente severo la panoramica le radiografie l'altro laterale in questo caso ho deciso di fare che cosa nella cata sopra di fare una distalizzazione asimmetrica distalizzerò più dal lato di sinistra rispetto a quella destra distalizzo pochissimo 2 mm qua distalizzo 7 mm guardate vi faccio vedere la quantità di distalizzazione è impressionante ho fatto una quantità di distalizzazione mantenendo il controllo nonostante stessi perdendo il coraggio anteriore perché devo proprio andare in CISI per darle un po' di estetica perché quando fate la distalizzazione voi dovete comunque dare un po' di estetica al paziente nella prima fase non posso dirgli ti fa i due anni allinatori e rimane ancora quei denti distorti davanti ok per questo ho utilizzato un mio protocollo di attaccio sostituisco attaccio ottimizzato che sono piccoli metodizzati è una superficie attiva che mi dà poca spinta con degli attaccio rettangolari in questo caso sono bisellati mesiali e ruotati 10-12 gradi perché devono avere un effetto estrusivo per contrastare quello che io chiamo il banana effect cioè la tendenza durante i movimenti corporei del dente a scappare fuori e perdere il fit ovviamente la paziente userà elastici giorno e notte e per l'inciso inferiore ho deciso di estrarlo ok a Stefano non l'ho estratto a lei per una serie di altre ragioni ho deciso di estrarlo e nonostante l'estazione mi dà meno protinazione quindi è difficile per il morso allora utilizzo un frog staging tanto sopra non devo distalizzare talmente tanto che posso farlo con una stadiazione sequenziale intrudo un po' incisivi intrudo un po' i canini intrudo un po' i canini intrudo un po' i canini guardate la posizione dei canini come è più bassa dei permonali perché c'è overcorrection ok e questo è come arrivo dopo 15 mesi ho perfettamente chiuso lo spazio estrattivo ho perfettamente paziente la paziente che ingrana in perfetta prima classe l'unico dente che si mosso meno è il 13 su cui dovrò lavorare dal punto di vista del tip e del torque quindi faccio 4 mesi dove non faccio nient'altro che cambiare prima il tip e poi il torque non lo faccio temporaneamente quindi vedete prima cambio il tip e poi il torque 19 mesi di terapia e questa è la paziente a fine terapia panoramica finale lato laterale e questo è il confronto ok ancora una volta ho rissimmetrizzato l'arcate quindi una paziente con una seconda classe su divisione assimetrica a macellare guardate in macellare qua come è tornato perfettamente simmetrico e qua come fosse invece simmetrico non simmetrico questi sono casi estremamente complessi però una biomeccanica una progettazione della simulazione biomeccanicamente ragionata vi permette di prendere controllo e rendere poi un potento che sembra essere estremamente difficile all'inizio non è questione di farci difficile ma renderlo predicibile che è l'unico obiettivo l'unico obiettivo di ogni mia pianificazione è quello di che sia predicibile vi mostro gli ultimi due casi così poi lasciamo spazio alle domande faccio ancora 10 minuti e poi lasciamo spazio alle domande perché ho visto che ne abbiamo ricevute parecchie e lo faccio mostrando i due casi lui è Alberto lo faccio vedere per due ragioni uno perché abbiamo parlato di morso profondo ma ci sono anche i morsi aperti di per sé i morsi aperti sono veramente facili adattare con gli allenatori per quello che vi ho detto prima perché non sono meccaniche esclusive perché spesso sono esclusivamente coordinando trasversamente le arcate si riesce a già chiudere in parte il morso però Alberto è un caso un po' più complicato vediamo Alberto viene perché non gli piace il suo sorriso dice che gli studenti sembrano essere buttati a caso nella sua bocca e infatti presenta una oclusione importante perché dal punto di vista l'antroposteriorale è una perfetta prima classe bilaterale però ha un open bite ok? di circa due millimetri abbiamo un cross bite di 16 e 15 anche leggemente di 14 quindi una tendenza di cross bite nel settore destro abbiamo affollamento inferiore importante i due canini che sono davanti rispetto agli incisivi e un affollamento superiore importante quindi un affollamento di entrambe le arcate questa è la panoramica ok? e questa è l'altro laterale ci fa vedere che il paziente ha una prima classe scretica gli incisivi sono biprotrusi e proclinati cioè gli incisivi sono proclinati e protrusi ok? e il paziente tende ad essere iperdivergente con una tendenza all'open bite ok? in questo caso decide di adattare Alberto in maniera estrattiva questo non perché il mezzo terapeutico all'alienatore sia chiaro io decido prima cosa fare in questo caso decido di appunto di trattare la maniera estrattiva e poi a quel punto se lui lo vuole fare con gli allenatori va bene faremo con gli allenatori ovviamente i casi con gli allenatori sono i casi estrattivi degli allenatori sono i più difficili da trattare quindi non fatelo a casa se non avete almeno un po' di esperienza perché se scegliete il caso sbagliato o non scegliete il caso giusto rischiatevi non uscirne più se però dovesse decidere di utilizzare e fare dei casi con le quattro estrazioni di premolari qualche consiglio ve lo voglio dare primo non usate i ponti i ponti che sono queste strutture che dovrebbero ricordare o simulare la forma del dente dove ho tolto il dente il problema è che queste situazioni queste forme non come dire contrastano la tendenza che i denti hanno questo dente per esempio mentre lo spingo indietro perché lo spazio ha a inclinarsi in uno spazio esattivo perché non c'è plastica di stale che contrasta il movimento in questo caso invece se voi chiedetevi non avere i ponti che li togliete vi metteranno queste strutture che si prendono il nome di bar che sono estremamente più rigide e che costruiscono o hanno sostanzialmente una zona di stale al dente che si deve muovere trasversamente traslazione in maniera da evitare un tipico eccessivo ovviamente il force aging cioè la stadiazione e il movimento pochi denti alla volta nei casi esattivi è un must quindi io prima muovo un po' i canini poi gli incisivi poi un po' i canini poi un po' gli incisivi fino a quando avrò completamente il movimento e devo usare degli attaccio in questo caso gli attaccio rettangolari verticali non bisellati perché mi aiutano a avere quello che si chiama recovery effect e il setup sarà un setup di working setup dove rispetto alla posizione finale la cosa che mi preoccupa di più è il tip perché io voglio tenere un movimento corporeo ma sicuramente avrò più tilt della corona in uno spazio distrattivo quindi come lavoro creando un extra tip ok una posizione finale esasperata del tip in maniera che durante tutto il movimento le mascherine tendano a spingere di più indietro la radice della corona un po' di rifinitura guardate l'ora un morso aperto e comunque mi si approfondita il morso perché qua essendo mi concentrato molto sul tip non avevo fatto dell'over correction verticale e di torque quindi ho dovuto farla poi infinito in altri sette mesi però in 23 mesi di terapia questo è il nuovo sorriso di Alberto un sorriso pieno un sorriso che non sembra sattivo quando lui sorride non sembra per nulla aver subito in caso comunque essere saltato con le stazioni è la mediana superiore perfettamente centrata l'overbite e l'overjap sono perfetti i denti in grano in maniera corretta e ho come dire risolto tutte le problematiche risolto crossbite sul lato destro ho mantenuto la prima classe ho risolto l'affollamento centrando le mediane e quant'altro la panoramica finale e la laterolaterale finale e questo è il confronto tra il prima e il dopo concludo con questo caso abbiamo parlato di affollamenti seconde classi molte profonde molte aperte finiamo con un caso di terza classe appunto perché poi ci sono tante domande e il caso di terza classe è di questa ragazza Fiven Fiven è una paziente che viene a trovarmi perché non le piace il sorriso e sono l'ennesimo ortodontista che le dice che deve essere trattata in maniera chirurgica perché il trattamento più corretto di questa ragazza è un trattamento combinato ortodontico chirurgico in quanto la malacrosione non è solo sedere dal punto di vista dentale guardate abbiamo un terza classe importante bilaterale con una deviazione di una mediana inferiore verso sinistra ai 3 mm abbiamo il 12 e il 22 che sono in cross bite anteriore quindi su cui dovremmo ragionare come lavorare abbiamo anche tantissimo affollamento sotto cioè in pazienti in terza classe dove l'affollamento non posso risolverlo proprinando gli incisivi perché peggiorerei i rapporti due pergetti negativi e ho 7 mm di trafollamento guardate un premolare semiimpattato due canini sono completamente troppo lingualizzati cioè gli manca tantissimo spazio e un'altra cosa che non mi piaceva era questa incansione incisivi inferiori questo gli americani lo chiamano washboard effect cioè se io toccando con la gengia sotto incisivi vedo il washboard è la tavola che i nostri nonni usavano per lavare i panni no? a questo effetto vuol dire che il paziente ha in atto un estremo compenso dentale e le radici sono probabilmente fuori o a ridosso dal corticare e questo era legato ovviamente alla famosa forte e severa terza classe l'unica cosa che mi poteva aiutare è che avevo un bolton fortemente negativo cioè fortemente alterato 3.5 mm di eccesso inferiore che potevo strippare il problema appunto dicevo è che la problematica non era solo dentale ma era anche scheletrica cioè lei francamente è una paziente che deve fare una terapia ortodontico-chirurgica la verità è che e questo motivo è quello che dico a lei di fare una terapia ortodontico-chirurgica lei rifiuta come aveva già fatto altri colleghi viene a trovarmi dopo altri tre mesi e mi chiede se potevo almeno allinearla ai denti io cerco di convincere ancora a fare la chirurgia la verità è che lei ha perso un apparente durante un intervento chirurgico dell'altra natura però è fortemente scossa non vuole intervenire e quindi le prometto di provare a studiare se ce l'avessi fatta è veramente vero che prima di accettare ho fatto 17 o 19 non mi ricordo diverse simulazioni per arrivare a trovare la quadra e quando ho detenuto che potevo trattarla con un camouflage abbiamo iniziato abbiamo iniziato e abbiamo fatto cosa? Nella carta superiore ho ottenuto ho lasciato muovere i denti tutti contemporaneamente come se applicassi uno straight wire ma nella carta inferiore dove c'era un grosso reale problema di carenza di spazio ho preferito un approccio sequenziale il mio ragionamento era banalmente questo istraiamo l'ottavo distalizziamo i settimi e i sesti di un millimetro che sarà più di inclinazione che di distalizzazione e muovo solo loro quando ho creato lo spazio a quel punto distalizzo anche avrò creato lo spazio quindi distalizzo anche i quinti e i quarti e a quel punto faccio l'IPR tra i quarti e i quinti così già guadagno 3.000 di spazio sulla distalizzazione più 2 scusate 2 di distalizzazione e 3 dallo stripping quindi sono da 5.000 in più faccio un po' di PR anche a livello dei canini e muovo solo i canini quando c'è lo spazio e quando il canino ha preso lo spazio ecco che comincia allineare le incisive e guardate le incisive durante tutto il movimento prendono dell'extra paratlingual ruttore perché l'obiettivo era quello di cercare di spingere più dentro possibile la radice quindi questo è un approccio fortemente sequenziale che non c'entra niente con quello che viene pianificato dalle case ok per esempio siccome ha fatto 15 anni di straight wire e di tecnica in BVT in tecnica in BVT mi aveva sempre segnato che se un incisivo era in crossbite il modo migliore per risolverlo era prendere il bracket e ruotare ai 180 gradi per dare un torque fortemente negativo positivo alla radice ok questa cosa con lo straight wire cioè con gli allenatori non è loro non la fanno chi ci pianifica il trattamento ma noi possiamo farlo perché scusate non mi torno più ok lo possiamo fare perché siamo ortodotisti e possiamo lavorare sul setup quindi se la posizione finale del setup non mi piace perché vedo che spingono solo avanti la corona non è un problema posso selezionare il dente e chiedere che il setup finale ancora una volta diventa setup di lavoro quindi non è più il setup ideale contempla 5 o 7 gradi di extra baccal root torque per avere più controllo delle rotazioni sotto quando dovrò allineare gli incisivi dovrò dare tanto tanto extra lingua root torque ok il trattamento di Fiven è durato 18 mesi questa è la rifinitura in cui ho già risolto tutto stavo solo schiantando l'occlusione quindi in 18 mesi questo è il nuovo sorriso di Fiven un sorriso pieno bello tutto allineato e questa è l'occlusione ideale finale che ho ottenuto ho ricentrato perfettamente le linee mediane ho risolto il sette minuti di affollamento l'ho portato in prima classe canina e molare bilaterale ma soprattutto l'ho fatto sparire il washboard effetto perché ho lavorato molto sul torque dei incisi inferiori tutto questo solo con degli allenatori la panoramica finale la trolaterale finale scheletricamente era una terza classe ovviamente rimane una terza classe solo compensata ma compensata in maniera corretta perché passare da quella situazione a questa beh secondo me è quello che dicevo a inizio terapia scusate a inizio lecture a lei ho cambiato la vita io ho migliorato il sorriso ma questa è proprio una sola testimonianza le ho cambiato la confidenza che aveva in se stessa l'autostima e le ho cambiato la vita completamente o neanche tra l'altro impegnativo dal punto di vista non è della chirurgia perché guardate la differenza tra sorriso iniziale e sorriso finale ma guardate anche il profilo sembra che ha fatto chirurgia questo perché guardate il profilo aveva un torque eccessivamente negativo dei settori degli incisi inferiori quindi la piega questo è l'affollamento che ho risolto e questo è il washboard effetto come abbiamo lavorato sul torque questo lo faccio vedere perché spesso un altro delle critiche che fanno chiudizzo gli allenatori e che non siamo in grado di controllare il torque anche qua potremmo parlarne ore se si sa come pianificare il torque è assolutamente perfettamente controllabile e questo è il prima cioè scusate è la sopra in posizione e con questo io direi che ho finito ho cercato di mostrare una carrellata di classi di casi delle varie classi nei tre piani dello spazio e spero che vi sia piaciuto rimango a disposizione per qualsiasi domanda grazie mille Enzo grazie mille per la tua bellissima relazione sono certa che non hanno apprezzata solo i colleghi che si occupano in modo diretto di ortodonzia ma anche chi non si occupa direttamente di questa bellissima disciplina hai dato veramente tantissime informazioni utilissime tantissimi messaggi da portare a casa e usare già domani mattina quindi di questo grazie sono arrivate ovviamente moltissime domande e quindi io inizio a portarle e magari ne nasceranno anche altrettante durante la nostra discussione innanzitutto un collega ci chiede se è possibile con gli allineatori risolvere un cross monolaterale in un paziente adulto quindi un cross ad esempio di 14, 15, 16 e se nel caso consigli di fare dei rialzi di masticazione allora io la risposta per me è molto semplice tutto quello che puoi risolvere in maniera pericibile con le classiche apparecchiature che hai esato fino a ieri che stai usando oggi lo puoi risolvere con gli allenatori perché non è il mezzo terapeutico che fa che dà risultato ma è come dire è la diagnosi ancora una volta però sì oggi per esempio peccato perché i trasversali non ho fatto vedere quasi niente ma cross assolutamente si possono risolvere cioè se vuoi essere conciso risposto sì poi come si fa bisogna fare ipercorrezione trasversale bisogna tenere in considerazione che ogni volta che si espanne anche da sopra soprattutto quando è monolaterale bisogna dare dell'extra back al voltor nei settori lato posteriore se no si rischia solo di romper contatto si devono utilizzare elastici a cross tanto quanto usavamo nello straight wire quindi ci sono tante cose che poi vanno pianificate però se la domanda è o casi sì assolutamente senza senza problemi ok ti ringrazio e un'altra collega invece ci chiede come fai a derogare di 70 80 gradi i premolari visto che tu hai fatto vedere questo caso in cui dicevi che anche le case produttrici sconsignano un po' quel movimento come hai fatto quali sono diciamo dei consigli che puoi dare la costruzione sono tante le strategie però la prima è ricordarsi una cosa i denti hanno bisogno di spazio per muoversi quindi è fondamentale creare spazio attorno a un dente prima che venga mosso questo è un altro delle problematiche degli allenatori o di come ci propinano diciamo le simulazioni le case degli allenatori cioè loro tendono funziona così è molto semplice il dente che deve fare il percorso più lungo ok nei tre piani dello spazio è quello che determinerà il numero degli allenatori perché ogni allenatore muove 0,20 ok se c'è il canino il dente più lungo quindi si deve muovere che ne so 10 mm allora dovrò fare 40 allenatori a quel punto poi la quantità cioè tutti gli altri denti ognuno si muoverà più velocemente o meno velocemente per muoversi tutti contemporaneamente dall'inizio alla fine al trattamento ok e questo è l'approccio straight wire a me viene da ridere perché io sono straight wireista convinto però quando mettiamo lo straight wire mettiamo quindi un po' di bracket e un filo noi allineiamo un po' tutto non facciamo una tonozia precisissima in termini di controllo verticale e di ancoraggio poi funziona tutto bene eccetera però non siamo super controllati sull'ancoraggio ok con gli allineatori invece se si vuole avere controllo bisogna cercare quanto più il caso è difficile di avere un approccio segmentale questo cosa vuol dire prima cosa non muovere mai tutti i denti all'inizio e alla fine i denti soprattutto che sono da intrudere i denti che sono da risolvere un cross bite di un singolo dente ad esempio o un gruppo di denti o i denti da ruotare soprattutto il premolare che è il dente più difficile ruotare adesso vi spiego perché vanno mossi da subito bisogna pre-creargli lo spazio attorno questo è un protocollo questo è un principio meccanico base del mercantile allineatori a cui poi ho creato una seggi in particolare a cui ho dato il nome di posterior round tripping che vuol dire sostanzialmente creare lo spazio attorno al dente da ruotare in questo caso il premolare prima di muoverlo e creare lo spazio vuol dire semplicemente spingendo via gli altri denti quindi qualcosa avrà misializzato avrà misializzato qualcosa di salizzato avrà misializzato di misializzato solo quando ho 0,2-0,3 mm di spazio attorno al dente solo a quel punto il dente inizia a muoversi perché se loro iniziano a muovere il dente prima di quando ci sia lo spazio tu perdi subito un pochino di precisione un po' di fitting e perdi il controllo quindi questa cosa prende in posizione da un tipping ed è proprio un'istruzione di sequenza di movimento che recita più o meno così per ruotare il dente 45 prima cosa crea lo spazio attorno al dente stingendo via gli altri denti iniziare a ruotare il dente a dirruotare il dente solo quando lo spazio è stato creato e io scrivo in inglese scrivo leave the gap cioè lascia questo spazio misializzato di stare per tutto durante tutto il movimento di rotazione premolare solo quando premolare è in posizione finale richiude lo spazio quindi questa è la stadiazione ok altra cosa importante se il dente ha un'alterazione di posizione anche di tipo di torque la tolgo oggi non ne abbiamo parlato ma non ne abbiamo parlato ma una cosa fondamentale da fare con gli allenatori è cliccare sulla tabella di movimenti tutte le case ve la danno e la tabella di movimenti descrive la quantità nel tempo di uno spazio e il movimento di un singolo dente quando c'è un dente che è particolarmente complesso come movimento in un piano nello spazio se tante grade di rotazione ci manca solo che metto a controllare il tipo il torque in quel movimento no perderò perderò controllo perché più informazioni di prendere il dente meno avrò controllo cosa faccio a zero metto a zero il valore tipo di torque quindi chiederò una rotazione pura sostanzialmente questo mi renderà più velocità che non vuol dire che il caso finirà senza il giusto tipo del dente perché poi in finitura una volta che il dente sarà ruotato allora reinserirò quel valore la terza cosa è gli attachment perché se alla base della biomeccanica degli allenatori c'è la spinta quindi i denti vanno spinti per essere controllati in una rotazione premolare che è il dente che ha meno sottosquale perché è un cilindro se io non gli do una superficie di spinta avrò sicuramente difficoltà a ruotare quindi in quel caso gli attachment erano scusate i premolari erano meso rotati ci sono due strategie che si possono utilizzare o si mette un attaccio in rettangolare verticale misellato mesialmente e posto mesialmente a centro di rotazione del dente questo è come si fa poi ci vorrebbe ho lezioni di ore sugli attacchi una lezione di biomeccanica però offro una superficie di spinta che è il più perpendicolare possibile al vettore di forza che mi serve per ruotare il dente e questo mi permette di avere il controllo rotazionale parerossalmente è possibile avere un buon controllo della rotazione dei premolari anche con degli attachment orizzontali quando il premolare ha una superficie anatomica estremamente caratterizzata perché funziona quello che noi chiamiamo l'effetto screwdriver l'effetto cacciavite a volte la plastica se c'è sufficientemente caratterizzazione sull'ufficio causale del premolare riesce a interagire perfettamente e quindi poi a come dire a controllare la rotazione queste sono le prime delle cose che mi viene in mente sul premolare poi cioè la cosa difficile è che sono tantissime le cose che vanno prese in considerazione e poi quella è l'esperienza cioè quando guardo un check si guarda a 360 gradi e sono tantissime cose che modifico la posizione finale dei denti la quantità di movimento che mi si guarda dentro l'attaccio lo staging l'overcorrection sono veramente tante un'altra cosa per esempio è aggiungere un vettore estrusivo al premolare perché durante il momento di rotazione il premolare tende a scappare fuori a perdere fitting allora se tu aggiungi un vettore di forza estrusivo questo tenderà a spingere durante la rotazione il dente contro l'allineatore quindi massima interazione massimo rapporto contatto di superficie e quindi trasmissione della forza spero di aver dato qualche una bellissima risposta grazie puoi riassumere gli step del protocollo DIP ok allora il morso profondo secondo me la prima cosa da capire è la diagnosi quindi ogni volta che ho un paziente di un morso profondo quello prima che mi chiedo è uno è dentale o scheletrico perché se è dentale so che sarà più facile aprire il morso ma soprattutto che non dovrò estrudere i denti posteriori perché se un paziente è normo divergente io apro il morso estrudendo i denti posteriori diventa iperdivergente e non lo voglio quindi se il paziente è normo divergente lavorerò creando l'adverse curvo spi che negli allenatori quindi no working setup solo intrudendo gli incisivi ma non intrudendo i preumorali se il paziente è paziente ipodivergente allora è chiaro che tenderò a estrudere i settori altri posteriori perché mi aiuterà nell'apertura del morso e mi aiuterà anche nell'aumentare l'emissione verticale scheletica del paziente che è uno di trattamento in una short phase quindi questa è la prima cosa seconda cosa valuto è ancora questa diagnosi se gli incisivi sono proclinati o no perché se gli incisivi sono retroinclinati o sono affollati quindi io devo risolvere il proclinando ovviamente ogni volta che io proclino ho qualche cosa un effetto di intrusione relativa abbiamo intrusione relativa quindi sarà più facile risolvere il morso profondo terza cosa valuto l'exposure degli incisivi quindi solitamente Emma, mamma, Mississippi incisivo a riposo guardo quanto espone e ha sorriso e decido se il morso lo vorrò aprire solo avanti sui incisivi sotto come quasi sempre succede cioè solo sui incisivi sotto scusate o anche sui incisivi sotto per rendere più predecibile l'apertura del morso anche da sotto c'è un problema ogni volta che gli incisivi vengono intrusi o comunque l'allenatore tende a vuole intrusi quindi spinge sui incisivi quello che succedeva mi succedeva anche a me a tutti anni fa era che la mascherina dopo un po' non calzava più e noi davamo sempre la colpa al paziente come si fa sempre quando non c'è fitting quella cosa è colpa del paziente la verità è che poi studiando si capisce che il problema non è quello ma il problema è che non c'era ritenzione ai settori medi quindi la mascherina me la spinge un incisivi ovviamente i incisivi facevano resistenza all'intrusione niente mi dava sotto squadra nel settore premolari quindi la mascherina scalzava allora le case madre cosa dicono a questo punto vi diamo un po' di ritenzione con queste attacce ottimizzate queste attacce ottimizzate però non ti danno ritenzione o ne danno veramente poche e quindi io li sostituisco con delle attacce mette angolari orizzontali che non rioriento ma metto belli sottosquadrati quando ho bisogno solo di aumentare la ritenzione perché se aumento la ritenzione aumento la trasmissione a forze dei incisivi ad ogni forza che risponde alla forza di rinforzazione io l'annulo se invece voglio estrudere i premolari perché magari il paziente è ipodivergente tendo allora a bisellarmi un po' gengivali in maniera da avere sia un sottosquadro ma anche una superficie di spinta estrusiva e poi lo staging lo staging è fondamentale per l'apertura del morso cioè invece di fare come lo set wire che apro il morso tutto contemporaneamente copio un po' la tecnica di barstone degli anni 70 Ricketts penso di non sbagliare anni penso di 60-70 in cui veniva fatta l'intrusione di pochi anni travolta prima solo i canini un po' di allenatori poi tengo fermi i canini e muovo gli incisivi poi tengo fermi i incisivi e muovo i canini quindi distribuisco le forze diciamo grazie mille ti faccio una domanda relativa a un caso quello di Steven che era una seconda classe prima di visione un collega dice se non ricordo male era anche una seconda classe scheletrica che hai trattato con distalizzazione sequenziale questo ci dice che la distalizzazione nell'arcata superiore con allineatori può essere fatta quindi anche in seconda classe scheletrica e seconda dentale e non solo in prima scheletrica seconda dentale allora no questo non lo dice questo lo dico io nel senso che sai sono sempre scelte terapeutiche che devi fare in base alla diagnosi è chiaro che quando la problematica è scheletrica l'obiettivo o l'indicazione principale sarebbe il riequilibrio della componente scheletrica e quindi un paziente a fine crescita la chirurgia ma è anche chiaro che possiamo dire tutto quello che vogliamo ma su dieci pazienti a cui proponiamo la chirurgia di avanzamento della mandibola è una cosa che manco percepiscono la retrusione non di guardare perché loro vedono solo incisione avanti ed è veramente difficile salvo che non ci sia una problematica estetica importante ok e quindi se dal punto di vista scheletrico io non posso correggere la malocclusione e non la correggerò perché visto che è Andrea che me lo chiede che non sento danni ciao Andrea eravamo insieme all'università dicevo se la problematica è scheletrica ma scheleticamente non ci posso lavorare o non la tratto ed è un'opzione di trattamento o decidi di fare un camuflage devo anche dire un po' come provocazione che l'autoranzia per me è camuflage nel 90% dei pazienti perché salvo quelli dove fai chirurgia tutto il resto è sempre camuflage ok però è un camuflage che permette di ottenere delle relazioni spaziali una norma occlusione che era l'obiettivo dei miei trattamenti ti chiedo se puoi ripetere il nome del dispositivo di stalizzante fisso che hai utilizzato e che hai mostrato in un caso e la collega ci chiede anche chi fa la progettazione della forma degli attachment cioè a parte la dimensione la forma del sottosquadro chi lo decide allora per quanto riguarda il nome io ovviamente non l'ho detto perché è un nome di un'azienda e non dire se si possa dire quindi ho bellamente saltato qualcosa perché dal punto di vista come dire diciamo che è un dispositivo di stalizzante fisso che si può utilizzare in combinazione con gli allineatori è quello che ho detto io ho un nome non si trova ovunque va bene così insomma quindi su quello non rispondiamo invece per quanto riguarda gli attachment allora beh gli attachment tutte le case madri hanno dei loro attachment ottimizzati poi c'è quella più importante che è quella che ha investito e continua a investire è migliore e continua ad andare a attachment sempre più performanti però chi gli disegna gli attachment lo disegno io nel senso che fisicamente sono io che prendo la simulazione cestino gli attachment che mi propongono che secondo me non sono precedenti che non vuol dire lo faccio sempre quelli che secondo me funzionano non li tengo quelli che reputo che non abbiano la superficie spinta corretta che mi può dare con interazione forza bla 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 per darmi controllo allora tendo a cestinarli e metterli ma a quel punto l'attachment è solo uno il rettangolare che poi lo metto verticale orizzontale inchinato quello bisello da una parte o dall'altra un nuovo bisello quello sta alla base di cioè alla base di alcune leggi biomeccaniche degli attachment dove ripeto però ho lezioni di 3-4 ore quindi riassumere sarebbe anche come dire inutile cioè nel senso non riuscirei a farlo comunque la risposta è il disegno io ma io tutto nelle mie simulazioni cioè io chiedo ai tecni per esempio uno dei miei maestri di allenatori addirittura si faceva il setup da solo io invece li faccio fare tecnici perché loro li fanno sicuramente meglio di me hanno più tempo innanzitutto di me sono pagati per farlo quindi io li faccio fare un bel setup ideale a loro quando mi trovano io ho solo un compito è quello di rendere quel setup scusate predecibile come lavorando sull'attachment sullo staging sulla posizione finale l'overcorrection sono un po' di cose che abbiamo visto oggi poi ripeto l'obiettivo di questa relazione non era quello di insegnare gli allenatori ho dei corsi da tre giorni ho corsi da una settimana e non è mai sufficiente voglio dire l'obiettivo era quello di dimostrare che siccome si parlava di futuro gli allenatori secondo me non sono neanche il futuro cioè secondo me sono presenti ormai ma anche perché ripeto il mercato tira lì la parte scientifica tira lì c'è stato il summit l'azienda più importante questo weekend c'erano 23 università italiane che supportano gli allenatori ok c'è tanta ricerca prima era una rava oggi si fa tanta ricerca questo è importante e comunque i pazienti chiedono quello e quindi o si può continuare a dire mettere la testa sotto la sabbia non funziona o si può mettersi in gioco uscire dalla zona di comfort che è la cosa più difficile perché per 15 anni facevo straight wire e ne facevo pure bene perché ho preso l'European Board Ortodonti che è il massimo certificato d'eccellenza dell'autodontia europea con i casi straight wire ero il braccio adesso in ravella tenevo e tengo corsi di straight wire domani parto per Bucharest andrò a fare uno dei miei corsi di straight wire però c'è stato un momento che ho deciso di risfidarmi rimettermi in gioco ed è costa fatica perché ho uscito dalla zona di comfort costa fatica però è il bello della nostra della nostra disciplina cioè potersi non dico reinventare continuamente ma mettersi in gioco utilizzare dispositivi nuovi ed è bello se no la vita sarebbe troppo monotona la vita professionale grazie più colleghi ci chiedono come ti comporti riguardo alla contenzione una collega dice che ha notato che utilizzi dei reti nerfissi e se dopo queste reti nerfissi ci sono delle mascherine passive di contenzione allora per scendere che io penso anche qua è un po' una provocazione che la stabilità non esista qualcuno dice che la stabilità in orto non esiste solo dopo la morte ma questo è normale perché anche chi non tratti i denti pian piano si spossano nella vita ok quindi la stabilità secondo me è qualcosa di veramente difficile da trovare se per stabilità si intende il perfetto mantenimento dell'allinamento e quindi tutti i miei pazienti sono in contenzione il problema vero degli allenatori rispetto alla straight wire è che con le apparecchiature fisse tu i denti gli allini i controlli le rotazioni le estrusioni sono tutti i movimenti nei primi dieci mesi i pazienti solitamente per altri sei otto dieci mesi ha degli archi c'ha un acciaio a pieno spessore dove i denti non si muovono più si muovono eventualmente le radici e si coordinano le arcate ma il grosso movimento l'ha già tenuto e quindi quando poi sbandi il paziente i denti per esempio un problema di rotazione che se tu le rotazioni recidivano perché le fibre transeptali hanno bisogno di riorganizzarsi ci mettono dai sei otto mesi allora se tu controlli la rotazione subito e poi lasci anche un acciaio per un altro anno quando togli non avrai le fibre transeptali che tirano per portare indietro il dente con gli allenatori un grosso problema è che i denti si muovono fino all'ultimo giorno quindi tu se pianifici una rotazione in 70 gradi l'ultimo grado sarà l'ultima mascherina e questa è una cosa che ho imparato un po' di spesa nel senso che faceva dei casi bellissimi e poi tendevano un po' di più recidivare rispetto al set wide perché perché hanno bisogno di più stabilizzazione quindi oggi nel mio protocollo una volta che sono soddisfatto della posizione finale il paziente continuerà a portare degli allenatori passivi ma sempre 22 ore al giorno per i successivi sei mesi in cui andrò a scalare in media un'ora ogni due settimane fino ad arrivare e poi portarlo solo di notte dalle 9 di sera alle 7 di mattina per alcuni pazienti che preferiscono non vedermi più uno scherzi preferiscono non avere ancora una cosa troppo impegnativa per l'utilizzo dei normali wire cioè splintoli incisivi o qualche dietro e basta questo però è vicino molto col paziente il caso che è stato visto con tanto splintaggio era perché era un caso estattivo e nei casi estattivi devi almeno aspettare un anno per l'organizzamento della papilla dal punto di contatto eccetera quindi avrei dovuto splintare almeno da 3 a 4 da 3 a 5 c'è lo spazio estattivo e gli ho messo quel filo che toglierò fra un momento ok ti ringrazio una collega ci chiede se nella paziente di 47 anni broxista con intrusione posteriore morso profondo anteriore e una protrusione molto accentuata degli incisivi superiori le estrusioni posteriori sono predicibili con gli allineatori credo di aver spero di aver interpretato bene la domanda come dire è veramente difficile rispondere a una domanda del genere perché non riesco a immaginarmi il paziente ma soprattutto non riesco a immaginarmi quella causa perché accedendo gli occhi mi sembra di vedere una paziente che ha uno skid mandibolare cioè che magari ha perso qualche contatto posteriore la mandibola è scioglata leggermente andata avanti c'è un morso profondo ha precontattato gli incisi solo e quasi sono approfinati allora è chiaro che in quelle situazioni tu hai bisogno di livellare la curva di spec prima di portare dietro gli incisivi se se l'obiettivo è quello infatti lei dice che ha perso l'invenzione posteriore se l'obiettivo è quello gli allineatori possono controllare la verticalità dei strumenti dei settori posteriori ma probabilmente ha bisogno di elastici verticali da associare che però avresti bisogno nello stesso anche quello settuale quindi cambia poco per quanto riguarda gli elastici non verticali ma in questo caso di seconda classe ci chiede un collega di quante once sono e se il diametro è 5 sedicesimi la risposta è che negli elastici nella seconda classe io non l'ho detto ma la quantità di forza dipende uno dalla meccanica cioè nella distalizzazione uso 6 once nella distalizzazione sequenziale segmentata o segmentale uso 8 once nella meccanica interraccata uso 4 once cioè è troppo legato alla meccanica e questo è proprio le once quindi la forza e la dimensione è legata semplicemente alla famosa legge che tu prendi un elastico lo devi allungare tre volte per avere quella forza e se il paziente ha i denti troppo grossi quindi stira troppo elastico e la forza è troppo alta lo regola quindi le dimensioni in termini proprio di un quarto tra i sedicesimi cinque e i sedicesimi le guardo su pazienti insomma come ti comporti nei pazienti che hanno bisogno di terapia con allineatori e hanno delle faccette estetiche sui centrali ma come mi comporto dal punto di vista del trattamento non sono un problema ok quello che sarà difficile di ottenere sarà dei perfetti punti di contatto perché quando i punti di contatto sono protesici non è così semplice chiaramente devo capire cioè è una domanda che è difficile rispondere perché la domanda cioè la risposta dovrebbe è legata a che cosa devi fare sui incisivi cioè perché se quegli incisivi non vanno mossi e spero che non vadano mossi perché se qualcuno gli ha fatto le faccette e le avrà messe dritte allora è semplicemente la paura della ritenzione non c'è problema chiaramente su quelli sono denti su cui non metto attachment dove non trasferisco probabilmente forze importanti basta se invece c'è un difetto estetico nella zona anteriore dove sono le faccette allora vuol dire che è successo qualcosa di strano allora è molto più probabile che muoverò tutto e poi farò rifare le faccette però è una roba che decido col paziente cioè la domanda è il paziente vuole rifare le faccette sì o no c'è un problema di filtrazione sì o no cioè è un po' difficile rispondere così ci puoi riassume il protocollo della distalizzazione sequenziale? oh mamma mia in modo sintetico il protocollo di distalizzazione sequenziale cioè il protocollo di distalizzazione sequenziale è qualcosa che ci vogliono due ore quindi semplicemente ci sono vari modi vari pattern di distalizzazione cui muovi un dente alla volta per lato due denti alla volta fino a tre denti alla volta e io lo faccio in base alla quantità di distalizzazione che devo fare più ne faccio più vado muovo meno denti ovviamente utilizzo degli attachment anche in questo caso rettangolari bisellati mesialmente inclinati 10 gradi per avere un effetto distalizzante ma anche estrusivo in maniera da mantenere sempre il fitting durante tutto l'arretramento devo dire che onestamente se viene pianificato correttamente la distalizzazione a me non mi ha mai preoccupato fino a portare i quarti in classe cioè i quarti arrivano bene in classe il problema poi era quando arretravamo il gruppo frontale quello è il problema peggiore perché se tu arretti il gruppo frontale ma non sei in grado di mantenere il torque quegli incisivi si retropineranno andranno in precontatto su un inciso inferiore l'inciso inferiore cioè la mandibola andrà in leggera distalizzazione tu riperderai la cassa e non capisci come mai ok quindi la sfida o la cosa più difficile è il controllo dell'arretramento del gruppo frontale ma è sufficiente associare la retrusione dell'extraparatorruttor che 10 gradi dell'extraparatorruttor che dà incisivo incisivo aggiungere 1-2 mm di intrusione rispetto alla posizione finale tanto non si intruderanno e aggiungere 4 attacce rettangolari orizzontali bisellati gengivali questo è quello che ho avuto il risultato grazie mille Enzo abbiamo ricevuto tantissime domande e anche tantissimi complimenti te ne leggo uno tra tutti che è quello di Gianvito Chiarello il presidente nazionale Suso che ti dice complimenti al relatore a chi lo ha selezionato un esempio di alto profilo per quanto concerne l'utilizzo degli allineatori facendo tesoro del proprio bagaglio teorico e clinico direttamente coinvolto nella prescrizione e nella produzione degli allineatori e del loro impiego mi associo veramente ai complimenti di tutti e ti ringrazio ancora una volta di aver accettato il nostro invito è stata veramente una serata interessantissima e utilissima per tutti noi grazie a tutti è stato un piacere a presto associo anch'io ai ringraziamenti a nome di tutto l'ordine grazie per averci regalato una serata veramente di altissimo altissimo livello testimoniato non solo dalle parole dei tanti commenti che arrivano da quelli di Vito Chiarello ma anche dal fatto che sono rimasti incollati più di 200 colleghi fino all'ultimo veramente e ci hanno mandato tantissime domande vuol dire veramente che è stata una serata interessantissima grazie grazie per avercela regalata complimenti grazie anche alla nostra moderatrice alla nostra consigliera segretaria Giannini grazie grazie a tutti colleghi di Milano che anche ai tanti colleghi non di Milano che hanno voluto seguire questa serata ci è fatto molto piacere avervi con noi quando vorrete seguire i nostri webinar milanesi assolutamente siete sempre i benvenuti sul nostro sito su Facebook ci sono tutte le le date con anche le modalità sempre per iscriversi sono le stesse di questa sera e vi do quindi l'appuntamento prossimo per il 9 maggio in cui parleremo con il professor Francesco Mangano di un altro argomento di tutt'altro livello completamente diverso ma sempre molto interessante sulle impronte il confronto tra l'impronta analogica e l'impronta digitale valutando i limiti e i pregi ovviamente di entrambe buona serata a tutti e grazie grazie